come se parte il phantom è carino lo straccio è il corrio ma c'è il quick draw anche sul cecchino? io ho messo su il pazzile io senza quello mi sono trovato comunque benissimo mamma mia ecco perchè ci riuscivano quelli a farle così secchi bello il quick draw anche sul cecchino del merda bello no il problema è che dovrebbe già averlo intrinseco in sé cioè nel senso che comunque è un accessore in più quello di metterlo ma guarda che andava benissimo anche senza io l'ho provato eh se va benissimo anche senza cioè in confronto a quelli vecchi intendo dire come è The Witcher? come ti sta sembrando? sei all'intro? sto guardando un video però non ho ancora giocato mamma mia sta pigliandolo? no sta riguardando la storia ahah bravo 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 fan criletto ma cosa sta facendo Isent? che ne so? te l'ha detto che stava arrivando? no ah allora che ne so ma te l'ha detto l'undici e mezza che veniva te lo devo leggere aspetta eh ah ma te l'ha detto lui ah ti ha detto qualcosa ah ma prima prima ero giocato stasera e topaglia che ha voluto entra verso le 23 e 30 se ci sei sì sì senti ti stiamo aspettando sì sì ma intanto sono le 23 e 30 sarde lo sai no ragazzi io mi fa forza da contare di Isent tutte le topaglie che gli sono successe a calcetto quindi quando parla bisogna ascoltare bene bene che sono le topaglie allucinanti super topaglie ma qua succedono qua succedono stai roba benji è normale eh io adoro ti ho detto di Isent quando vengo da voi mi fa fare una partita di calcetto ho detto di sì quindi mamma mia è impazzisca eh sì eh perchè siamo tutti verdi? il colore della weed il colore della weed il colore dell'erba ma tu gremi il porro? tutti i giorni ho messo l'emblema del weed rio non sei abbastanza no eh io sì che ho messo l'emblema del weed sei fatto oh bravo questo non è un giocato all'assare io moro io bravo rio eh Tom sta imparando a giocare rio te invece male male eh io no troppo troppo Tom ce l'hai dietro sto salvato eh grazie benji niente mette queste altre c'è il rio pure l'ho visto io sono avanti a te alcuni eh sì lo so no ti sciocco vai assist no questo mi si è smiata tantissimo l'arma strano forse da lontano lo difetta parecchie devo devo farci casa che difficoltà che livello di difficoltà ha The Witcher? più o meno che vuol dire? dipende lo senti tu? eh appunto ma dico se lo metti normale è difficile o no? è abbastanza difficile nel senso che comunque non è non lo puoi mettere cioè tu ti piace un po' di sfide? vabbè normal eh non vorrei mica non vorrei mica fartelo easy easy no io gli ho spesso mettere normale è difficile non è così difficile però devi non è neanche facile non so devi starci ragionare sulle cose se metto difficile è troppo difficile sì sicuramente probabilmente sicuro no no è sicuro 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 lo puoi cambiare anche in corsa mi sembra sì è vero quindi inizia per cambiarlo in corsa inizia normale e poi che vuol dire simula un salvataggio di The Witcher 2? sì vuol dire che quelle cose che succede ok The Witcher 2 simula nel senso che se tu andando avanti la storia succederanno delle cose che sono inerenti ai vecchi capi di The Witcher 2 dei scelte tipo che hai fatto nel vecchio e ti simula delle scelte lo scoprirai dopo guarda tu metterai sì metterai sì sì poi lo detrai dopo c'è un momento in cui c'è un tizio che ti chiede delle cose capito? e tu puoi rispondere e tu puoi rispondere e tu puoi rispondere a seconda di quello che rispondi praticamente è come se auto rispondessi alle scelte che hai fatto nel vecchio sono un po' strane eh un po' criptiche però si capiscono Madoff in tutti i colpi minchia che è successo? un tizio ha tagliato un cavallo in due con una spada eh capito eh è The Witcher ben mutuo su The Witcher che cazzo di roba è questo? eh non lo so perchè mi sono smerdata no eh avevo la special brutto a sogno io ancora non fido i gol e quindi nooo ancora non lo stai facendo bene Tommy devi impegnarti oh ecco un'altra arma meno male no ho preso ho sbloccato le razer adesso le voglio provare le razer? cos'è il mouse quello lì? balord? no la pistola tipo quella della giapponese la pistola della giapponese? la pistola della giapponese? eh molto bravo molto bello la tecla Aery di sto gioco tu sei invidioso perchè non guidi l'aereo eh Rio non è vero? mi hai scoperto eh lo so tu sei invidioso Rio perchè non sei donna bellissima comunque quando sei sei contento almeno che non ci sono le donne in sto gioco mamma mia sono contentissimo si si eh ma Banji piace questo gioco come si ehm insomma tanto comunque Zepp ha fatto una cosa inaspettata eh no inaspettata magari cioè inaspettata ma molto bella mi è piaciuto molto praticamente mi è venuto poco prima che riprovassi la beta mi ha scritto Banji vi ragioni tu il gioco più veloce di Black Ops 3 si attenzione Zepp torna dai suoi passi mi è stato molto bello perchè stiamo perdendo? ah non lo so io eh io non ne sto trovando ecco dove dove dove? dentro muoio era di a terra da qualche parte la strada c'è Banji Pryce che sta facendo 24,5 Banji Pryce fa schifo meno male meno male io non ho ancora capito cosa serve questo eh vedi vedi il problema del fattore che manca eh il doppio triangolo è che quando finisce colpi non puoi fare il baguettino oh mannaggia il baguettino bravo rio così con l'arma dei quicchi con l'arma dei quicchi mi è arrivato un messaggio ecco mi ammazzano c'è la isn't spero posso solo sperare boh ma isn't master pop of the pops cosa? niente mi state male ma non ho detto niente io state male tutti state male mi deve spaventare bravo Tom ho visto sto guardando una cazzina assurda è quella del sogno? tutto spoilerato? no è quella di lui che fa nudo nella scarabana ah eh vabbè ci sono anche scene peggiori di quelle sono anche te che migliori si beh si mamma mia rio mi sta sembrando nei movimenti con quest'arma io sto rivedendo ghost nei movimenti di quest'arma si ti assicuro che arma è? la... la vector che c'è su ghost non so se è così fesso da riaffacciarsi ma non l'ho preso è stato fesso ma non l'ho preso quindi fesso doppio io ragazzi ma perché stiamo perdendo sta pigliando sta pigliando eh c'è uno che sta facendo due dici a sette ammazzate quel cane è Tom per caso no no io ce l'ho vado avanti vado venti io che ho la specie vado avanti io vado avanti dietro bungee dai dai scappa 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 merda one shot one shot one shot quello no merda ma come passa via più ne faccio fuori più ne stiamo perdendo ma com'è sto fatto dai con la macchinina dai con la macchinina no ha fatto una ha fatto una solo per troppo ci ho due vado avanti io ragazzi nascondetevi nascondetevi no è one shot aveva la special aveva mannaggia non l'ho considerato ha preso ha preso ha preso ha preso ragazzi ci vuole un miracolo adesso io quello lì che sta facendo schifo lo ammazzo oh merda eh niente oh eravamo messo in un punto veramente orribile dim ball cosa? niente finalmente mi posso muovere ah la seconda secondo me c'è uno che sta giocando dall'altra parte degli avversari eh io vedi così non posso fare per adesso ragazzi abbiamo due kill e perdiamo cercate di non morire nascondetevi camper camper modalità camper dai 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 no no merda no ah guarda il topo che ce l'ha eh purtroppo cioè è stato putronic lì ha fatto 30 guarda il topo guardalo cioè voi ditemi così ragazzi cioè cioè io mi devo ma guarda cioè tom voglio un commento sul risultato sul risultato un commento bravo sembra un buon commento bravo esatto sembra un commento proprio lì sul punto mi piace possiamo dire che abbiamo perso e che siamo scarsi possiamo proprio dirlo io posso dirlo esci esci lì o che c'è Isent oh usciamo quando c'è Isent un applauso a Isent oh poverino che poi dopo me lo metti in soggezione ma vaffa mi culo ma vabbè che cazzo di messaggi mi manda Isent ok ha dato account Isent è una partita che così mi faccia oh ma dio cane che cazzo di fanno quattro persone tutte insieme in una testa santa c'è troppi ma Dante oh mio dio è ancora vivo ma sei ancora scarso come l'hanno scorso mamma mia assurdo ma che l'hanno scorso è ritardato grandissimo 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 c'è anche boll Isent ma boll si ma sei ancora quel nick di merda c'è proprio per tutti i maggi mi ha insaccato solo Isent si Isent ha deciso che le vuole prendere quando vado in sardegna mi ha insaccato assurdo allora innanzitutto chiudete quel gioco del cazzo e mettiamo Rockets per lì che almeno è un gioco decente che cazzo dovete fare siamo riusciti a perdere l'ultima partita in modo impossibile tipo anche distruggendo tutti siamo riusciti a perdere sì sì perché ci servi tu ci servi tu Isent serve il quarto l'anno prossimo l'anno prossimo mi chiedo veramente che quale sarà il titolo di Call of Duty secondo me sarà tipo Tom 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 chi picco Call of Duty Call of Duty è le mille dimensioni spazio-temporali bello su me sarà uno spazio della filosofia è una cosa astratta sarà il prossimo code che ne pensi potrebbe essere si può dar sì Call of Duty Deontology bellissima però come nella copertina c'è ci sono i filosofi che ne pensano ci sono ci sono dei rumor che dicono che sia sul Vietnam il prossimo ah sì vabbè sui code 4 vietnam 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 hanno 3200 esatto bello bello i vietcong che sono dei robot che sanno sì e se oggi il robot esce a distruggere il capitalismo esatto però essendo tutti dei cazzo di robot orientali saranno delle cineserie assurde quindi ogni tanto tu hai sbloccato il robot con le armi e Kimbo all'Assassin's Creed? l'hai sbloccato? ehm che cazzo ne so che qualcosa ti ti hai sgravato al numero simile ti dico subito ma io ho chiuso il gioco durante la partita quando mi sono visto il cane robot per corrermi addosso e da dietro ma guarda che quello è il meno scrappo con l'inizio tu dispari lo fai fuori ma è andato tipo da dietro correndo come un furetto io ero in edgric entra 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 sul code e dopo si fa robot ho fatto la faccia ho fatto la faccia ho fatto la faccia no non credo più no come? come no? ho giocato dall'altro account a sto gioco di merda ma perchè cambia qualcosa per la country no? e vabbè c'avevo qualche roba sbloccata ma che hai sbloccato perché hai fatto una partita ed equitato ma che? ho fatto un'ora e mezza prima che mi capitasse il cane robot ma che cazzo di gioco è? è un alano un alano enorme si un alano robot ma ti sei spaventato? mi hai preso un colpo ho fatto la faccia del cane ti sentito io ti farò una review dettagliata del gioco ti farò comunque perché hai sui aspetti positivi non c'è amarlo gioco per favore che bello è questo non è che dice non faccio la review ti dirò anche gli aspetti negativi ecco ho sbagliato sbagliato sta mutando però non ho classe devo mettere le robe di death point considera che una volta si diceva questo gioco ha anche questi aspetti negativi no questo gioco ha anche degli aspetti positivi esatto è quello che diciamo ha anche degli aspetti positivi questo gioco forse solo le armi sono gli aspetti positivi Bolle voglio dire una cosa Bolle ci sei? Bolle? 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 Bolle è scomparso ma perché Bolle scompare? ma davvero gioca guardagli il porn contemporaneamente Bolle ci senti ti dite una cosa importante sei? non c'è non c'è è svenuto perché ha visto il maestro insaccarlo è troppo l'emozione ma poi questo ragazzo lo mandate pure ma chi è questo? Nimo? chi? è Nimo Nimo è Zeppe Nimo è Zeppe ah Zeppe è vero ma che lì sta parlando sottovoce? no 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 si sente quando parla ha l'emboletto e ci dicevo poi le cagate di Bolle le mettete anche online avete pure il coraggio di pubblicare sono bellissime bellissime ma chi lo fece il famoso rutto del video? i Bolle Bolle cazzivo veramente ma cambia nick quel video però non è ancora mai uscito online no quello è ancora no allora come è successo? hai ricevuto un invito hai ricevuto un invito su schiacci eh schiaccia il tastino fiesse ooooh eccolo qua andiamo su ma non vado neanche a creare eh quindi una class qualcosa ma non ce n'è bisogno ma come non ce n'è bisogno mai dieta class tanto ci voglio un po' per trovare una partita direttamente il robot con le armie la sansins creedda Kimbo ma che cazzo vuoi? qual è? dimmi qual è? il sinaptic il sinaptic quando sei in in cosa? quando sei in creata quando stai in creata class il primo robot select combat rig e vai su rig poi sinaptic il robottino il robottone ok ok ecco quello lì senti i sblocchi dell'arm ho sghiacciato x ed è partito un video perchè? perchè ti fa vedere i video della roba ti spiega tutto su questo gioco ti spiega ogni volta che prendi una cosa ti spiega il letto ti fa il focus sul personaggio e io senti qui hai beccato la mappa per giudere il gioco te lo dico subito sei contento? ma porco dio si no non mi devi dire così devi dire PD eh no io voglio io voglio che durante la partita tu mi dica le tue paglie non facciamo modalità dominio perchè è un po' troppo dura sul fegato guarda scusa oddio minchia lo sto tritando ISENT oh ragazzi dica ISENT si si con i comandi del cazzo di default come ci si abbassa eh merda si abbassa col cerchio ISENT se vuoi ti dico cosa metti però puoi metterlo tattico eh puoi metterlo tattico subito eh ma porco dio uno dentro ISENT vabbè comunque bellissimo ISENT io voglio assolutamente che tu mi racconti una tua paglia alla fine ogni fine di partita ogni fine di partita l'ha continuato paglia per forza ooooh che cazzo che meraviglia eh vabbè ma ma sono stato un shottato ma sono stato un shottato non è normalissimo non è normalissimo non è normalissimo la partita ma ero pure in edge quello era quel cazzo fuori pisciando sto sentendo male io sento me di far ridere così tanto ecco dai 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 io ti voglio su questo gioco competitive ti voglio eh io sto pisciando da ridere non è possibile ma non è certo ma non è certo oddio cioè gli ho tirato giù 10 e muori bastardo che c***o che ho avuto guarda mi ha pure scritto come back per prendermi quel c***o troppo non posso fare mille kill I'm around devi farmi ridere di meno oh ragazzi aiutatemi un minimo c***o su su aiutiamo isn't ci penso io isn't tu dimmi dove sono ma tu sei una c***o di cane ma che c***o dove c***o siete niente no ti do un consiglio vai a caso a caso a caso li trovi non sto scherzando vai a caso come dici come Boris a c***o di cane a c***o di cane devi andare a c***o di cane a c***o di cane funziona oddio sono tutti la eh sì infatti top fa la doppia ma ragazzi non lanciate le compenze uccisioni dall'alto perché qua in questa mappa è una c***o enorme farla no guarda io ho il robottino come c***o è la lag compensation questa merda eh poca non è tantissima 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 però comunque di preferire un po' ci devi sparare eh ma che cosa c'è lo scudo assurdo no io ho lanciato un po' di vortici che ho lanciato oddio mamma mia non pensavo fosse un nemico non è tantissima ma che armai stai usando per curiosità boh quella di before che pazzone è so eh non è stato comunque la classica come sarà prima che c'era ma porca miseria è schifoso mi sono arrampicato per sbaglio help 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 ma come faccio a vedere nel corridoio se sono nati davanti a voi eh anch'io infatti non capisco cazzo oddio ma 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 non c'è boyle in partita no boyle sta giocando a the witcher quando boyle sono meno non so dove è finita non lo saprei nada ma po come fanno a nascimento di no quello non l'ho capito no oddio sto cominciando a capire di spawn ma a volte no a volte non lo capisco vabbè anche che ero così eh no ma anche ero così questo qua che mi ha fatto non morire vabbè ecco 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 nooo c'era uno frichissimo lì a sinistra sai che sai che in questa mappa non va bene l'arma che sto usando no non ci credo c'è gente che si campra pure su questa mappa merda sta perdendo aspetta 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 no no ci penso io penso io ho capito come si campra no no vabbè non è possibile uno da quanti uno è dietro a sinistra ma pochè miseria le stesse nostre le stesse nostre perdite no ragazzi camperatemi se no si perde camperatemi un attimo vabbè vabbè eh sì vabbè mi vengono a far pigliare se mi campero poi non muoiono mi sto un po' attirando di qua non morite non morite sto cercando di prenderli in base nooo li stavo prendendo tutti in base nooo dai questa mappa qui è difficile poi all'inizio è stata analizzata è difficile questa è stata colpa dell'inizio è stata analizzata infinita nooo sento quella sei tu eh sì è morto male ovviamente questa mappa qui devi farla per farla bene a cerchio a otto è difficilissimo da spiegarlo dovrei farlo vedere è un casino ma dio ma proprio non ci sono angoli cioè gli angoli in cui mettevo mi arrivavano a farlo ci sono ci sono non ci sono angoli ma ci sono gli affaccini che sono peggiori degli angoli perché tagliano la mappa ce ne sono ce ne sono quattro disposti su due file al suono dello spawn del corridoio e tu praticamente devi passare un affaccino all'altro ma perché dobbiamo giocare senza ball non lo so è schiantato gli ho mandato anche un messaggio secondo me gli hai sentato gli hai preso un colpo gli hai preso può essere ma ci hai parlato si in realtà si questa mappa qui non è difficilissima e non parla non so ma questa mappa è un po' così così mi sento il tuo paglia cioè l'intermezzo racconto del tuo paglia forza dai dai l'ultima che hai fatta no guarda no guarda ma di calcetto quello che ti pare vai vai sì anche sì sì va benissimo voglio saperlo anche stasera ne sono successe ma andiamo in ordine cronologico giovedì scor- no martedì martedì della settimana scorsa allora è una squadra con cui abbiamo una partita fissa del giovedì però hanno insistito che volevano giocare due volte a settimana e quindi io gli ho bloccato il campo anche il martedì eh fatto sta che dico allora ragazzi partita di martedì ovvero domani chi gioca e iniziano ad arrivare io gioco io e non gioco io bbba bbba le solite robe eh ok fatto sta che uno ha scritto sì sì ci sono ci sono e io ho scritto ok a stasera arriviamo al campo ed eravamo in 9 insomma questo qua ha dato per scontato che si stava organizzando la partita del giovedì senza leggere di quando era la partita ti ha segnato che leggere a stasera che lo somma una casa magari in più per riuscire ad arrivare a 10 che avete invitato stavolta? oh ragazzi io ne ho 20 qua di stronzi eh ditemi dove perché io non li sto trovando ho fatto due giro della mappa ah tutto in centrale ok arrivo per arrivare a 10 abbiamo preso un ragazzino che stava giocando la partita prima lì al campo e mica un drogato le mani in tasca per tutta la partita cioè io che mi massacravo ai palloni questa aveva le mani in tasca in mezzo al campo classico scazzato carboniese non c'ho voglia c'è tipo rischiando di spaccarci le ossa per recuperare palloni e questo una volta che li recuperavamo li prendeva dalla difesa e tirava dalla difesa in porta cazzo bellissimo ma perché gli isent ci sono queste cose non lo so però mi hai pensato che potrebbe esserci un virus un minimo vicini perché non siamo minimo vicini a questo gioco del cazzo perché il deathmatch a squadra di isent è come se fosse un gigantesco tutti contro tutti oh ragazzi non è possibile io ho sparato mentre la di spalle è un caricatore non è possibile ora di spalle fermo benvenuto su infinite warfare infinite warfare spero da subito e ragazzi è uscito un nuovo call of duty vabbè porco no ragazzi non mi fatemi giocare e incazzare a questa merda vai isent non mi fai ridere un minuto ti fai ridere muoio ma vai una minchia io non ci voglio giocare a sta roba ma che cazzo è ci facciamo i tornei ci facciamo si 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 sta minchia ci faccio minchia quanto ce n'erano là dentro oddio io sto provando sto provando a entrare di nuovo dentro il eh ma sono anche stupido dentro il negozio bravo bravo no ma che cavolo dentro il negozio ci deve entrare con le mitragliette ignoranti no il negozio non si può entrare appunto cioè è molto semplice la cosa non puoi entrare dentro il negozio allora è una bagaglia non ci credo oh oh vabbè da no il negozio dopo si va sul rocket non è possibile non è possibile oh stiamo perdendo anche questo no 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 è imbarazzante è imbarazzante è imbarazzante è imbarazzante no ma perché mi avete fatto entrare in questa roba ma che cazzo è isent vai bello c'è il futuro il futuro isent porca miseria questo è il futuro A Isenton non piace il futuro, Dio. No, la gente che... Ah, Isenton. Oh, è tornato Bull, eh, mi sai? Bull, ti ho sentito che ti ha chiamato qualcuno durante la notte? Che ti ha chiamato? Eh, un tizio, ma... Quello dello studio? Quello dello studio, Bull? Dello studio? Quello di domani che deve essere insieme? Sì, sì, sì. È un infame, quello? No, è una botta solo. Vabbè, ragazzi, ma c'è un cazzo di cose enorme che spara con due braccia. Oh, ma c'è Isenton, c'è? Dai, ma che cazzo è? C'è un cazzo gigante che spara dalle braccia. Ma che cazzo è? Io se te sto amarendo da ridere, eh. Ma che cazzo è? È il futuro. Isenton, è il futuro. Ma che cazzo? Ma vaffancio, va. Il futuro di CoD, vado, eh. Ho nati da cazzo di bambini grassissimi. Bazzissimi, ma non sono per un cazzo Isen, ci mancavi troppo, devi devi di più, Isen, mannaggia te Cioè, ma guarda Ho nati da cazzo di bambini che non fanno altro che mangiare merda Domenici da cazzo Isen, stai facendo perdere la partita che mi sta facendo ridere, non te lo consiglio, di fammi concentrare Mi concentrare, concentrare Vabbè, oh Oh, sta pigliando la shit a Isen, come si fa, fai qualcosa Ragazzi, vediamo di battere a questi bambini Nascondetevi ragazzi, le faccio io, lo nascondetevi Basta mettere con la merda e la spieghi Ragazzi, lo nascondetevi, ve lo consiglio Nascondetevi, nascondetevi, camperatevi, camperatevi Perché c'ho anche la super, c'ho anche la super io Ok, ok, sì, sono la super Merda, c'è un altro là sopra Che è che hai fatto fuori il radar che non vedo più niente Merda, manca due kill, eh Merda, che cazzo è che stanno a spandare No, cazzo, no, non ci credo No, di una Volto di microfono dal naso C'eva la cazza di super, c'aveva la cazza di super, c'aveva, mannaggia lui Eh sì Bull, che schifo è Ma chi è? Bull No, non sto facendo niente, sono fermo Che cosa? Allora è Tom No, non so, io sono fermo Io lì per uno Ma guarda! Sei tu, ben trappantita a questo gioco No, no, è Bull È Bull Bull, sei te, sono sicuro Sei te, Bull Lo fai per sbaglio Stai inaspando di più Ragazzi Di che? Togliamo sta merda No, ma facciamo l'ultima Che io poi spengo Facciamo l'ultima Facciamo l'ultima Andiamo sul Rocket L'ultima per Tom Andiamo sul Rocket Dovo, Isis Andiamo sul Rocket Promesso E' un genio Quanto tempo Non l'ho visto più da tanto A mandare i ricci Sta guardando la tv Sta guardando questo gioco di merda Davide, mandami Ma sai che se te allenassi su questo gioco C'è incredibile Comunque si è avuto un po' sfiga Che si è persa prima Secondo me L'unico modo da fare Cosa sarebbe io In questo gioco qui Si 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 dovrebbe compensare Il fattore che c'era su Ghost Cioè che tutti voi vi camperate E io vado in giro L'unico modo Secondo me Per farla vinta No Tu su Ghost Riuscivi a camperare da solo Per tenere di fattori Sia di mappa Sia di accessori Che c'erano No? Quello non si può fare Ok Non si può fare come questo Si Quindi lui deve fare Tipo che siete in tre Tipo tu Isant e Tom Dovevate camperare In una zona buona Con armi buone E stare a guardare a posto E io ve le ammazzavo in giro Non c'erano in un altro modo Perché così mi fate di morire troppo Quello io è il fattore Capito? Perché io alla fine morivo La maggior parte delle volte Perché mi venivo di lato da dietro Ma davanti Non era un problema Bull ti posso dire una cosa Da confermatissima Bull Bull Dai dimmi La tua tv ha problemi immensi Perché sto giocando su coded È tutto diverso Mamma mi ho fatto Insaccate alla tv di voi Qualcosa? Non ci crescerà uno dietro No no V non è insaccato Diverso tutto il tutto Coda? Una porco demonio È diverso il gioco Come spari Le cose lì Le cose lì Che parlavi Che non c'era Almeno in 2D Si sentono molto di più adesso Vabbè one shot at One shot at No aiutatemi Quello è impossibile No 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 Fidati Bull Cambia cambia Ma Quello è impossibile Si si possibile Possibile Oh La grafica è quella Non è che No no Fidati Fidati Ma porca di quella miseria Mi sta scendendo C'è un piano C'è un piano C'è un piano Cosa C'è un piano Mi sono stato ucciso due volte Da un cecchino Che ha sparato a cazzo Lo so Lo so Isente Ma perché Questo è dovuto al fatto Che ci sono angoli stretti E quindi Shot at Nel caso Negli angoli lunghi Ma porca miseria Qua sono me Non ci vuole quest'arma Ci vuole quest'altra No 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 Questa 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 No ragazzi Questa è da vincere Mi cazzo male Vai Vi sa vincerla Dai dai Vi sa vincerla Via Adesso mi impegno tantissimo Isente Bravo Però questa è la mappa Che ho fatto pochissime volte Quindi devo capire come farla Vabbè Ma mi one shotta Non è possibile Nelda No non è possibile No Tranquille Mi è feritissimo In mezzo Assiste Oh ragazzi Ci sono due cecchini Che ci fanno Ci penso io Bravo Dai libero Ma Di headshot Esiste Nel caso Si Io muoio Mi sa Ecco Sono morto Mannaggia Lassite Lasciate nemmeno Lasciate nemmeno Dove Che cazzo L'ho tolto Quello con la special L'ho tolto Quello con la special L'ho tolto Vai No 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 Eh Dove ricordarmi Che con la special Lì ci sta Nanno A metterla Sto intassando Male Ma male Gli sento non te la faccio perdere Tutti i costi Tutti i costi Guarda A costo di L'ho inizio Ma no No Non è possibile Non è possibile Guarda No Cazzo No La dobbiamo avere arma Stupido No Vabbè Non è possibile Perché ne trovo sempre due Insieme Perché Noi siamo sempre A cazzo Quelli Ragazzi Così si perde Cerca di mantenere Profilo basso Ma c'è profilo basso Che sta facendo Uno undici Sta male Eh Nasconditi Trovati un punto Dove nasconderti Trovo Trovati Ma porco Giù da cane Che l'ho fatto Poche volte Stampa Non ho ancora Bene capito Come funzionano Gli spawn Devevo cercare Di concentrarmi Dai dai Ma porco Giude Ce l'ho sempre dietro Dai ragazzi Dai 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 ragazzi Però loro Sono sempre insieme Noi sempre Una cazzo Ha ragione Isent Anche l'ho mortatone C'erano due Nooo 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 No 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 Aiuto Io faccio anche il giro giusto Io faccio anche il giro giusto Di qua Ho la super O la super O la super Distruggete il coso Distruggete il coso Distruggete il coso in aria Nooo Non ci credo Non ci credo Perdoni Oh merda Eh no Non fa di scuro Distruggete il coso in aria Distruggete il coso in aria Se no si perde Si perde sicuro Però Mannaggia miseria Hai aiutato a distruggete il coso No si perde si perde Si perde Si è perso Si è perso Si è perso Niente Si mi ha messo sul cazzo Che è come Deci sconfitte Come ha fatto a morire Ah merda No Cacca Ah schifo Sono convinti volte Con quei cosi dall'aria Addirittura Addirittura Ho fatto negativo Benji Son morto tre volte di fila Con il ricompense uccisione Alla fine No Finchè non si vince Dai va bene Facciamone un'altra Va bene Eccolo Si ma si cambia stanza Io gli sento stanca Quindi la prima volta Che la faccio Praticamente Cambiate ma dai In bagno al volo Tra un po' Devo andare in bagno Anch'io Anche se non ho voglia In che senso Mi sta facendo cagare Sto gioco Fa veramente Dio ma and'è che si sblocca La metallica Ah eccola qua La metallica che dicevi tu Devo provarla subito 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 Come si chiama? Si chiama Tom Tom is shit No a me piace L'RPR Ebo Eh Quella lì ha foto Sono giocchi 4.000 partite Dai Tu gioco 4.000 partite Tanto bugge vince No comunque mi sono trovato malissimo Sai perché io secondo me morto rio è andato in bagno ah mi sembra che è andato in bagno un'altra boh comunque sia io ti devo una volta che divento ricco ti regalo una tv quella con meno input lag vedrai che cambia io sento c'era tempo spazio per un'altra topa mi dice in due secondi della partita con le ragazze come è stata ma ma cosa c'è da dire vinceva chi riusciva a inquadrare la porta tirando anche dal centro campo cioè imbalazzante talmente ha fatto una parata è riuscito dopo 20 gol presi a fare una parata ed era talmente contenta che si è messa a ridere le scivolate il pallone e la buttate bene e questa è una storia vera ragazzi c'è un problema non ho più l'analogico ma che cavolo questa la vinciamo è così togliamo questo gioco esente che voto dai questo gioco come cazzo è il colpo senza il tattico il colpo r3 r3 ma porca ma puoi sistemartelo isent fai prima eccolo eccolo è che adesso lo puoi fare sempre in opzioni e provi la configurazione delle levette la seconda opzione mi pare ma se metti tattico devi essere più tattico di giocare in rainbow six vero rio giusto bravo ma che cazzo sono questi corpi che galleggiano nell'aria voi quando muori la tua tuta antigravitazionale muore con te ma porca di quella miseria ecco ok sto facendo una merdata sto facendo il contrattacco avv è tremendo su sto gioco eh si è fisso poi e non te lo dà stiamo perdendo anche questa no no isent fidati non si perde questa eh si vabbè merda dovete togliere quel contrattacco avv che mi dà un fastidio cane e per me qua come lo togli che ci sono questi cazzo di tetti hai ragione hai ragione merda tommy ce l'avevi pure accanto eh eh ma mi ha sciolto benzi nell'acido si di più ok ma che è attacchi attacchi con bombe ma che cazzo vuol dire attacchi con le bombe a tappeto attacchi con il tappeto il tappeto volante è quello che c'è quello che c'è da sott'ispo lì si 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 bravo vero boh io mi aspetto da un momento all'altro il tizio che esce urla terminetto sei tu tipo matrix buzz cioè terminetto sei tu ragazzi mi fate mi sta potendo il naso rio è finita abbiamo perso è finita dai ma stiamo perdendo davvero anche qui no ma come è possibile isent mi sto impegnando al massimo stai facendo una strage isent come facciamo a perderla che ti devo dire dai dai non ha can 2 la recuperiamo dai 3 io più di così non posso fare mi sto sparando cazzo ah ecco abbiamo io ho fatto effettivamente tanto che ho finito ho finito le armi devo sparare col cieco come ho fatto a massarmi da su ah no mi ha massato quello perfetto ok no 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 ma dai ma super dappertutto mi è arrivata una cannonata dallo spazio no come hai fatto a prendermi ma è la terza volta mi prende quelle cose un missile dallo spazio dai oh isent un missile dallo spazio questo è il gioco dallo spazio ricordatelo ma neanche rompere il tetto poi così no no ragazzi sono tutti andati all'altra parte sono tutti andati all'altra parte tutti tutti ma adesso passano da sotto no no che culo che culo assurdo rio no mannaggia il gioco si mette in fondo perché è un bastardo no negli angoli negli angoli come la merda negli angoli come la merda no rio non devi dirlo tu sei il camper devi battere di sotto quel punto di vista rio devi battere io non posso fare il camper qui non posso fare il camper come dico io ragazzi sono sette chi sotto eh no porca troia ragazzi si è sette chi sotto si è allanciato un'arba a cazzo una bomba a cazzo in quello che mi sono spuntato ma da ragazzi vi prego basta che vi cambiate un attimo ci si fa eh va bene camper mi camper ho posto no vabbè c'è già uno dietro ho appena spawnato cazzo la madre qui c'è il naso fisso che mi gratta qualcosa che non avete idea oh dai ragazzi su vi diciamo questa no perché devo abituarmi a usare quel check in quel modo no vabbè non è possibile sta attento a quello lì che si mette la no perché c'è uno dietro no di là ma di là ragazzi qua si perde così eh eh niente quello lì ce l'avevo accanto a 3000 di voi non è possibile ragazzi non è possibile di così non posso fare all'inizio ho fatto un miliardo intanto tu dove mi stai pegnando eh no niente ci si fa oh mi fanno tutti quelli che tutti tutti sul culo ho appena nasco ce li ho già attaccati niente mi sa che qua serve un miracolo no ci si fa vengono tutti addosso insieme poi eh ecco ma vaffanculo eh isent ti arrendi? uno ha fatto 5-20 sì ma guarda quelle che abbiamo in squadra però 5-6-22 quelli lì questo manco mi ha preso in realtà ma che cazzo isent come si fa a vincere se ci sono due che fanno ci fanno 5-20 e 6-22 isent mi spiego come si fa a vincere ciao Neil mi spiego miracoli eh Rio guardati la foto di Eugenio che guarda questo gioco tu dimmi se è possibile vincere facendo con due tizie che fanno qui sotto di kill cioè torniamo a quei tizie bisogna fare partite sgravate cambiamolo bivopo ancora cioè guarda se i vinti sono ma che cazzo state facendo? mi sono dimenticato di mettere il microfono puoi dire qualcosa siamo bene Niam grazie 5-15 ci siamo i 15-16 ok eh sono 31 togli il 31 risultato se l'ha vinto eh lo so di parecchio se non c'erano quei due coglioni avevamo vinto di parecchio anche perché tutto il risultato avremmo vinto praticamente a 69 169 avevamo vinto praticamente vabbè devi anche considerare tutte le volte in cui io pensavo che fosse pulito perché vedevo due compagni guardare in quella direzione uscivo e mi ammazzavano probabilmente erano quei due erano allora adesso si dice comunque sono un coglione me l'ho messo nel cecchino me l'ho messo il calcio ma che cazzo ma è un bug ma che cazzo fa? ma cosa c'è in te ma che hanno messo nel cecchino il calcio che cazzo forse per quando metti ragazzi vi prego vinciamo non lo voglio più vedermi mi impegno al 3000x1000 mi raccomando mi impegno al massimo mangi guardami mangi guardami bellissimo risent venitisi bolle un saluto che dici vai hai fatto già la kill risent fatto già la kill che volevi no mannaggia ma come cacchio faceva essere già lì non mi torna a me mi sa che c'è uno che nasce un po' più indietro ecco guarda te faccio gli stessi ragionamenti miei secondo me nascono diversi no ma all'inizio all'inizio della partita secondo me nascono un po' strani devo considerarlo eh ma non lo so questo è cosa ho detto io sì sì no ma sono a cazzo anche di spawn secondo me molto a cazzo di spawn secondo me quello è il bello di risent è veramente un gioco imbarazzante c'è un problema ho finito i colpi che culo che culo che me che sfiga perfetto dopo il culo la sfiga è normale va bene si compensa io voglio un'opinione oggettiva di questo gioco lo usano per come tortura lo usano preferirei veramente stirare 20 camici per fare un'altra partita questa cagata è fatta dai isn't mi sto impegnando con l'obduty un giorno era il mio gioco preferito ma c'è code 4 isn't ricordati che c'è code 4 ricordati quello mi rifiuto di comprare questa merda per poter giocare a code 4 ma non puoi giocarlo sento devi aver per forza il disco dentro io sta roba io non gli do un centesimo a questo gioco per bimbetti ciccioni cazzo bellissimi no merda tu dai dai isn't che sto facendo sto facendo sto facendo la pazzia la pazzia guarda 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 isn't mi sta piando al massimo ce l'avevo lieto tom mannaggia eh no era la ratta ha finito il colpio si è qua c'è la ricetta missione cosa fare non riesco a vedere nulla ma perché continuo a passare dove ci sono gli aerei che lanciano bombe isn't te l'ha fatto te la vinco questa a costo di impazzire te la vinco per te only for you ok la supera la supera anch'io dai no 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 chi è quello accanto a me che non mi ha coperto cani cani no ci sono camperati al centro state attenti l'ho visto l'ho visto eh uno l'ho preso l'altro no l'ho visto io l'ho visto ti lo vado a prendere io lo so dov'è lascialo a me lascialo a me lascialo a me eh si è spostato cazzi sui è morto come un cane mamma mia no aiutami dio io sono tutti tutti ingressolaterale ingressolaterale dio ingressolaterale ce ne sono tre ce ne sono tre oh ragazzi sempre insieme mi ritrovo è impossibile no no c'è la super c'è la super toglietevi toglietevi non ci andate fatele finire eh mi sa che l'avete preso c'è uno lì a destra occhio bom l'ha preso bravo no 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 non è possibile non presi neanche uno tutte ferite tutte ferite sono porca miseria schifosa dove sono? eh ce l'ho davanti li faccio io li faccio io annaggia mannaggia fatti tutti fra poco c'è la super ditemi dove sono l'attivo quando vedo il radar ma ma che camper sono robottoni l'ho visto sono miei ma che cacchio l'avete preso tutti te eh era lì era lì fammi passare che ce ne sono altri fammi passare sono fuori sono fuori fatti di tu fatti 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 tre no è one shoot mannaggia ucciso 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 dai questa si vince sono dall'altra parte dello sponsor dove siamo andati noi no cazzo era dentro io non veniva era il radar quello oddio santo ragazzi ce la facciamo ce la facciamo isn tranquillo come si lancia la bomba col tattico r1 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 l1 dai vinta oh basta via che carini bolle venge la games week ho visto le foto adesso dice nia ci sono foto ben peggiori dio le ha viste si risente si è vinto cosa ne pensi hai visto la domanda della marijuana stai rivalutando questo gioco ammettilo mamma mia preferisco veramente giocare alle come cazzo si chiamavano le polli pocket le polli pocket quittiamo che bello circuit sul rocket si passa sul rocket si 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 per carità di dio buona raga ne ho io stacco stacca il clicker di compagnia notte tommy ci sentiamo ora mamma mia però dio santissima mandagli robo mandagli robo mandagli robo isent il video mandagli robo hai il tempo isent per raccontare l'ultima topaglia mentre preparo il coso per rocket hai il tempo aspetta vado a prendermi acqua è preparato in mente bravo ma l'è andato bolle è sparito anche da parte devi vedere questa foto devi vedere adesso faccio vedere ah no c'è ancora ma gioca almeno a rocket ball bellissimo io passo anche a me ciao ragazzi ciao ciao aspetta te la passo la faccia è Eugenio che dice ma che cazzo è sta roba bellissimo allora guarda che c'è oddio santo è molto un errore di code è allucinante non so cosa sia io l'ho già chiuso è quasi cancellato però un po' mi è piaciuto un po' mi è piaciuto dai ci sono alcune cose io che somigliano aspetta aspetta che devo fare i coso per di isent perché scusate dove cacchio è quello di rocket eccolo qua poi metto down ci metto ok perfetto sto sistemando la roba per rocket arrivo subito intanto c'è isent che è in bagnetta no no sono qua sono qua mi sono preso un succo di fruttina ah no è vero prendersi un succo di fruttina bravo bravo isent mi piace che sei sempre in in connessione perpetua con la natura con i succhini ah si ho capito perché c'è bello 99% di zucchero 1% di acqua buono eh lo zucchero è buono è naturale anche quello fa bene al cervello fa bene isent eh si potrebbe essere praticamente qualsiasi gusto cioè potremmo fare pesca gusto zucchero io lo butto giù lì in rocket così tranquillo senza staccare si cambia certamente ok dovete invitare voi metterei rocket agile e tranquillo infatti ma che cerca Benji la partita mi capitano quelle partite dove gli avversari prendono la palla volando in retromarcia ma che te lo faccio tanto c'è Benji tanto c'è Benji diglielo io voglio i nabetti voglio digli a isent di non preoccuparsi diglielo non ti preoccupare isent che tanto facciamo schifo allora vi invito io ma anche io non cambia niente non cambia niente non cambia niente quindi no non cambia nulla fa una media in base a che abbiamo in squadra penso si si fatto abbastanza bene come faccia isent un titolo un titolo a casa io rocket agile e tranquillo ho già proposto prima ok perfetto ok andiamo andiamo vai invitate invitate mi piacciono talmente tanti eccolo qua oddio devi organizzare in cartelle tranquillo ce l'ha fatta sono abbastanza veloce senti il tanto di già isent bene isent ma nemmeno neanche iniziato stavo pensando al fatto che questo pomeriggio mi ha dato un baule che sembrava troppo bello mi ha detto baule dei campioni super mega non puoi aprirlo devi pagare isent eh l'ho aperto tutto contento e mi ha detto paga se vuoi pagare faccia di merda paga come un campione vero è pagato ma perdone io ci sono rimasto di merda ma che cazzo di premio è è come dire ecco il regalo di compleanno se vuoi scartarlo mangi un euro finalmente nemmeno capito il tutto ha capito brava nemmeno ora capisco perché benji vuole prendere bolla spranghata troppa pucciosità poi ispira la violenza manderò un'immagine su facebook di questo fattore io l'ho già vista vero sì la pucciosità di boll vai vi invito tutti ci siamo vita in vita che andiamo che andiamo a fare proprio guarda chissà quanto vinceremo tranquilli 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 voglio vedere questa immagine di neojam è spaventatissima oh mio dio sì sta proprio pensando che merda è diventato mi piace povero iso ormai sono tutti così in giro chiesi devi farci il callo boll ma anche solo te boll ma anche solo te boll boll dove sei? in effetti è vero boll dov'è? boll? dove sta? ma? scompare così ma sta bene si sta bene e lui è così quando sta bene ma lo segue qualcuno? via Jason te considera è che io sono stato a casa luce per i giorni io eh dove? cosa? sono stato a casa sua tre giorni fino da venerdì e spariva anche a casa? ma spariva? ma c'era delle robe un po' strane però è non lo so c'è bisogno di iniziare in tre praticamente senza in tre vai intanto che si aspetta praticamente sono iniziato a scoprire dei non perdiamo perché io aspetta la metto non standard classificata vada ok si è meglio oh aspetta aspetta ok boll ma cos'è? vieni subito vieni subito boll dove sei andato? stiamo per iniziare dove sei andato boll? eccolo ma? ma? come ma? non ci hai avvisato e noi stavamo iniziando si non male non male ma? si partiamo sta partita dai 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 vi voglio motivati nicchia Isent è sparato dopo quelle partite di code mi sono veramente gasato si guarda c'è le ascelle pezzate Isent quindi sto a posto proprio sto bello gasato quindi avete quitcato quella roba si l'abbiamo quitcata io dove vai Isent la do anch'io ne abbiamo vinta una su quattro abbiamo detto beh sai cosa siamo troppo bravi in questo gioco e adesso cambiamo comunque il teatro sei andato in positivo io t'ho visto t'ho visto concentrato e impegnato bravo Isent no Isent concentrato e impegnato è un gioco di merda però non è peggio non è peggio di advanced warfare Isent benché le mappe perché le mappe facciano schifo non è peggio di advanced warfare non è peggio di advanced warfare no no è come dire mi piace quando ti concentri così tanto quando ti pulisci il culo magari piace scusami beh infatti è una bella sensazione poi adesso l'ho fatto anche la campagna aprire la scottex non c'è bisogno di concentrarsi ma sì perché magari che ne sai ma dove cazzo ah ma sto giocando aspetta che cazzo stavo sparando ma che cazzo stavo sparando ma come mi stai sparando ti ho fatto male ti ho fatto male ti ho fatto male i codi Isent sta male vecchio ormai ci vuole qualche minuto per svizzare per svizzare lo capisco ha ragione lo capisco lo garantisco bravo Bull fargli vedere cosa si fare ma chi è che l'aria è andata indietro cazzo c'è un avversario che è fermo oh doveva approfittarne adesso ah ah mannaggia ho deviata Bull occhio eh no tranquillo Isent devi scla- devi devi- devi- devi impazzire male adesso eh no 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 se non ci arrivo più dai 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 vai Bull vai Bull vai Bull vai Bull ha fatto grande ha fatto torrete quello c'è il primo gol ma se è fatto torrete quello ma perchè vediamo facciamo un po' in realtà a Bull per questo gol difficilissimo mamma mia che assurde bravo ma come è che sto fatto te l'aspettavi? si scontato nooo dai rio oh no Bull mi avete dato una schianta altrimenti ce ne sarei arrivato mi avete dato una schianta fosse stato Bull per sbaglio eh sì vai vai no no bravo Bull bravo Bull oh merda oddio dovete toglierla nooo dovete toglierla dovete toglierla dovete salire ce l'avevato in mille non ci sto mandando nessuno no Isent dovevi toglierla Isent cane vuoi fare un tuo gol ma che cazzo tu toccala te la tolgo io in caso vai Bull vai Bull fammi un passaggino dai dai sono al centro aspetto eh ma dov'è eh devo fare passaggio io Isent se posso occhio no ragazzi male ragazzi quando ci sono i palli quando ci sono i palli da fare l'assist da solito la me fate voi i gol non mi interessa fare il gol devo fare l'assist però Isent dai ma si guarda il punteggio in questo gioco eh l1 sopra l1 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 rio fammi quei passaggi che solo tu sei messo di fare è fatto merda è fatto con un osse l'hai fatto merda si si lì era un po' la shit mi stava prendendo eh ma dopo ricambio mamma mia buona piglia la shit piglia eh vai bravo bravo rio esci esci era giusta cazzo non ho proprio il turbo la prendo io sopra la prendo io no merda ok ok oddio no 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 era buona era buona purtroppo mi ha dato un avversario addosso e mi sono smerdata bull passamela bull no peccato rio dei famiglia assist quelli che sai fare tu eh dipende se non si smerda la palla no se ci arrivo prima io te li fa bravo bull bella ah peccato oddio merda no no non è merda fidati vai vai dai 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 è mia dai 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 gol dai isn't andiamo a dominare anche sul rocket come dai uno di loro ha già quittato su guarda che il bot è più forte di un'altra hai pubblicato su facebook l'album dei gamesweek ha visto padone vanno bene quelle foto vol le pubblicate eh erano tutte appunto bene non erano tutte lo sai benissimo che non erano tutte nooo boll buona beh c'erano video ma i video no hai bui video o non lo sai ancora non li ho messi video no iterano tutte le foto del gamesweek non lo boll dell'altra foto ah ok no 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 però mancavo ma ti ricordi che ti hai fatto la foto a bravissimo bellissimo boh bella attaccata ti ricordi che hai fatto la foto a street fighter ball dove è finita quella foto si si eh non lo so non lo so perché l'hai cancellata non c'è più assurdo non lo so vai 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 isn't nooo mancata ma hai preso io no le altre foto sono parlate e non devono solitamente essere parlate ho mandato a nian però no quale aspetta eh oh eh oh quelle giuste no quale no no come no 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 eh no no tranquillo tranquillo no eh quale ho mandato eh non quelle dove c'è il doveria il cesso ma non c'erano quelle delle valgine bravo ottimo ok ci siamo capiti si si bravo bravo ma merda si si non esistono quelle foto del cesso bravo bravo si 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 le foto del cesso le voglio vedervelo no non ci sono veramente no io non ho capito quali io non ho capito quali foto hai mandato quelle lì con un cuscino oh merda no me l'hanno fatto private all'unico il guard nooo ma sono per mia è normale è proprio di gustezza di misura grande grande di misura quella lì no che schifo che schifo mia il cuscino ve l'ha veduto ancora peggio perché non va no guarda guarda che ho visto il cuscino di ball rio quello lì che hai visto nella foto rio si si è peggio eh peggio come è peggio peggio di quanto pensi è proprio sfatto delle lecchiazze orribili qualcosa di che schifo che schifo che ci fai con quel cuscino ball schifo niente no 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 ci piange ci sono lecchiazze di il tartaro schifoso non l'ho mai pulito eh saltava dagli occhi eh devo farci la foto devo fare la foto con vedi bolsi pucciosissimo lo sapevo dice niam mamma mia no ma io non ho capito hai mandato veramente quelle foto o è uno scherzo no non è uno scherzo mamma quella lì ne manca ancora una ne manca eh perchè benzi tu non è la spunta del pronto perchè sono un coglione ah ah ho capito qua ah è c'è arrivato quelle del cesso eh niente niente bol sbavuzzi mentre dormi dice niam no sono i segni delle riempite minchia ma veri proprio è tipo tu immagina sporco bianco schifoso qualcosa di orribile no 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 era schifo era bianco bianco schifo ma tipo tarda sa bianco sono mai bulls 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 perchè bulls perchè bulls i got bulls of steel bulls of steel bow 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 no che cosa è successo che cazzo era completamente solo no isn't isnt isnt devi prenderla prenderla semplicemente prenderla in aria ma perchè mi hai tempo è salta salta doppio x isnt ha devanzo a the warfare non ti ha segnato nulla fai finta che si ha devanzo a the warfare isnt ma ma che è ma che è bravo ball bravo isnt isnt monster incredibile bravo recupera l'errore che grande bravo ma questo è un bellissimo guarda che passaggio uh upla bullo che ne pensi di god isnt bello giusto ci stava buona trade oh buona test rio rio sai cosa scrivere vero penso c'è tu io rio inventati qualcosa di bello nooo cazzo ci sono io ci sono io tranquilli io sono fk ok bravo che l'hai detto bravo occhio occhio bull nooo nooo ma 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 cpa mentre gioca che disturbo ha esattamente ahahahahaha ahahahahah ahahah ahahahahah 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 � a non ce la fa giocare per più di un minuto di spira bol laschate laschatela ok aio vediamo vediamo Dai, vai Ryo Oddio Oddio, il passaggio è assurdo Eh vabbè Erano troppi Isent, hanno fatto tipo un muro Tipo un muro di pallavolo C'era verso Ball, girati Posso andare a FK? Eh, no Ball, ma devi andare Alla toilette No No, Ryo, mannaggia a te Posso andare a FK? Perdona No Vai Ok, tra l'altro rimetto Vai Quello di così non te lo potrò dare È impossibile come me l'ho messa Oh, stiamo perdendo, bisogna vincere Eh, non so Vai, 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 vai Facciamo così, io sto più indietro Vi copro tutta la palla No, ci vado io, ci vado io Bravo, ball, ottimo Bravo, ball Va dentro Grande ball Vai subito a FK ma torna subito Ok, entrivo Queste cose qui dell'FK sono le uniche che non ho capito da bolla Queste sono le uniche che non ho capito Ball Non ho capito 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 Hai messo il muletto? No Ragazzi Dai, dai, dai Oh mio Dio Occhio Quali sono i problemi? Come quali sono i problemi? Devi dirlo, devi dircelo No, no No Mamma mia Isn't Eh Eh, la tua È troppo difficile mi sa però Mia? Niente, lascia stare Lascia stare La prendo io La prendo io No Eh, boll mie Ti sei fermato Ti conveniva che mi saltavi Tipo Vai No Come hai fatto a tenerla lì? No No Porca puttana Una ha quitato Una ha quitato Dai, è toccata Via, via Buttala via Dai, dai E poi non è quella giornata in cui Io piglio la shit Ecco A me piglio di più Ragazzi l'ho deviata a pelo Io ti ammazzo se mi fanno golle No Zitti Ragazzi ho fatto due parate impossibili Dico solo questo Lascia a me Gli sono le nostre Dai, mettiamo in mezzo Su Zitto Oh ragazzi Grande Mamma mia Vediamo Vediamo Ho fatto due parate prima impossibili Tipo Mamma mia Che drink Mamma mia Di sento solo per te queste cose Tu ti ricordi dove è il lupo? Sì Veramente? Però non sei andato a prendere la palla Ball Eh lo so Non è anche il panetto Ti dico solo questa Lasciate, lasciala Merca Dio Io soffro come soffro io Vedi? Vai, vai, vai Ball Prendita Siamo spiriti affini Per la vecchiaia che ci unisce Esatto Oh merda Ci penso io Lasciala ball Lasciala No ball No No Piggia shit Ball sta pigliando Sono morto io Vedetela voi Io No, no, no Io ho fatto la scintenza No Io ho visto la tua paglia incredibile Dico solo questa Eh ragazzi Ero un po' in In the five ounce No semplicemente non dovevi più far Hai fatto la tua marcia per troppo tempo Vai, vai Vai, vai Vai, bravo Isent Va benissimo Devi provare Lo sai Isent Con lo sa che fai Se c'è il compagno di squadra Che tira Li confonde tantissimo No, no È fuori, fuori È fuori, fuori C'è stato lo schianto I tizi qua vicini No, chi è che l'ha tolta lì? Eeeh TOLTA Volevo la lì Dove lasciarla a me Vai, vai È mia Dai, dai È fatta bo Va bene Grande ball Bene 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 Come l'ha fatto a missarla così lì Quello lì lo conosci per caso In tuo allievo Hai visto Isent che stiamo dominando? Minchia Sì Vai, vai Hai visto Vai Era buona l'idea di Isent Dovevi farla un po' prima Vai Ball No No Ball No Ball Che stai facendo? Ball è la nostra porta Dio d'oro No Non ci credo Non potrò più toglierla ormai Perché Perché hai fatto la tua rete Ball praticamente? Perché hai provato anche a tirare? Perché hai provato anche a tirare? Ball ti provato anche a tirare? T'ho visto Ball spiegami Non si può fare Non si può fare un Un coso Dobbiamo fare ogni Ogni mese Praticamente No Non ti sento Non ti sento Non ti sento Ragazzi Oh Oh Non perdiamo Non fatemi pareggiare Dio abono Guarda L'ho anche distrutto Quello Fanculo Ball ci puoi spiegare Perché stai tirando La nostra porta In quel momento? Un po' l'orario Un po' l'orario Va bene Dopo mezzanotte Si deve Anzi dopo l'uno Bisogna andare al contrario Bisogna segnare la propria porta Bello che Ball è anche MVP Eh si Eh beh Fatto di gol Non differente Bravo Ball Goli fatti buoni Veramente Stai giocando bene Comunque Ball Meglio di questo pomeriggio No ma oggi Mi hai anche detto Oggi che c'è la scimmia Di Rocket Ti ricorda? Si si Infatti La sto Crescendo bene 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 Mi sento commenti a caldo Su queste dichiarazioni E non stavo ascoltando Ok Andate sulla falla Per carità E noi siamo in blu No No Siamo in rossi Bull Non sa neanche vedere La macchina di colore Dai Questo è uno scherzo No Ho sbagliato Non male Che purtroppo Dovrei abituarmi Un po' A questo monitor Ma ci metto poco Non è il problema No No Scusate Lascia Aspetta Lascia 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 Ok Adesso Buona L'avevo fatta Se la prendevamo Subito O io Succedeva un disastro Fidati Succedeva un disastro Prendevamo Subito Ma io lo so Prendo io Io t'ho visto T'ho visto Smerdata Benji ma quando Vero fare il simbio A mia mamma Mamma mia Assunta La scimmia E' venuta la scimmia Sua madre Bellissima Di giocare a rocker No Se mi avevo messo a giocare A gitarino Ah Bellissimo Mi ho giocato in tre No Non è che sto dietro No Io mia madre L'ho fatta giocare A Call of Duty Sì Ragazzi La metto di lato Eh Merda Che che mette con la stecca Io No ball Io Anche io rimaia Questa penso sia stata la peggiore retolta di palla dell'universo Oddio Eh non ci arrivo più Dai Rio Oh no Come hai fatto a messarla così No cazzo Perché pensavo che rimanessi un po' più dritta Invece no Vai Vai È mia No io sento mentiata una stecca assurda Una stecca assurda Mi hai tirato Bello bello È meglio di così non posso fare Ahia bolla stecca a me adesso mi lancia Mia mia No Oh sì Va bene Mia mia No merda Eh c'è L'ho dietro lì che Vai cazzo Dai non si butti Minchia Ahia Vado io vado io vado io Ah ok Eh merda Ahia Fuori io Fuori io Non ti saltare Non saltare No bolla che schifo Eh pensavo Che fosse più Più sulla Sotto la traversa Buona questa invece Buona io Mi serve il turbo Cazzo Mi serve il turbo Me lo fotte Eh bolla Anche con un dange lo fa Oddio Eh l'unico modo di toccarlo era quello Cazzo La prendo io Se va nel muro la prendo io Bella Eh non ho portato più in osse No bolla Hai tirato una stick assurda Hai tirato No io sento sul tuo nuovo Io sento di sconsiglio di fare retromarcia Quando non sei spertissimo Girati e basta Mia mia Bull E l'ora è tua diventa adesso Cazzo vuol dire Come cazzo E mio mio Devo rimattare lì ferma un'ora Ma che cosa cosa vuol dire Non ho capito cos'è che doveva voler dire Eh perché ha detto Mi hai detto mia mia E l'infermo lì E allora non capivo Sì esatto C'è sempre un perché Isempi La prendo nel momento giusto Anche tipo mia Ci sono momenti in cui va presa Momenti in cui Cacca Io ero meglio di così Non potevo prenderla là È impossibile Perché eravamo in 4 qui là Non è stato dato uno schioppo assurdo Posso dire che se non c'era Bull Che stava passando lì Tipo in tangenziale La mettevo fuori la palla Bull sembrava che c'era la tangenziale Stai prendendo la tangenziale Per il carpaneto lì No per Firenzuola No mio dio Ce ne fanno anche un altro Stai fanno No No adesso la facciamo No Bull Perché mi tiate le stecche Oh ragazzo tra la parità Mi tiate le stecche Ahia In case mi tiate andata la stecche a me È bello Ragazzi se stiamo fermi un secondo Ve lo faccio il gol Proprio se Già mettessi bene in campo Mettiamoci bene in campo Un attimo Lasciatela Lasciatela Ma perché mi avete tirato le stecche Me la passo io tanto Bull Ma che cazzo Che s... Bull Invece di tirarla te Da tiro io Tu poi fai i gol dopo Vabbè Tanto il portier la devia Tu ti metti il centro Abbiamo poco tempo eh Eh non ho più il nos Finito il nos Metrodinare Merda dio Dai che buono Dai che buono Bull mi raccomando Devi prendere il mio assist Se te lo tiro eh No cazzo no No cazzo Non l'ho visto quello dietro Ragazzi finita No muore Mi torta male Mi torta male Ai 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 Si perde Ragazzi per questa Mi sa Per questa è persa Sai perché Perché siamo voluti andare Tutti sulla palla Tutti sempre E la togliamo sempre Fissa a qualcuno di noi C'è io non ho fatto un tiro Che ero libero Di fare un tiro Ci andiamo troppo addosso Quando vedete che uno Va sulla palla L'altro non ci deve andare Se volete la ridevio Dai 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 Ma cosa dai In nove secondi Se vuoi ti dico io Come si fa In nove secondi Vuoi che ti dico io Come fare in nove secondi Vincere No Ah ok Allora non te lo dico Hai due secondi Per saperlo Vabbè Ah no Falla e basta No Ho bisogno di voi Non si può non fare Oddio Un schiantavolo assurdo Vai No Cazzo Peccato In direzione No no Vado a riprendere Alza 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 No Io che schifo Io Ce la facevamo Ce la terminale Ce la facevamo Perché ho preso Il nostro Eh vabbè Noi esageriamo Questo santo Hai fatto un salto Di merda Allora Assurdo Ragazzi Stapartite Sei persa Perché quando C'è un compagno Dovete capire Questa è la cosa più Nab del gioco Che sbagliano Tutti Se c'è uno di noi Che sta andando A prendere la palla Non andiamoci in due Perché tanto Gianni viene una merda Non andiamoci in due Io non ho potuto fare Un tiro una volta Che c'era qualcuno E punzecchiamo il culo E un po' mi è piaciuto Però Non si trova Continuamente Non fa male Un po' mi è piaciuto Eh vabbè Se vuoi Usiamo un po' Di liquido bianco Ma sta già iniziando Eh sì 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 No 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 Ma perché Ma perché È buona Questa mappa Non si capisce un cazzo Ma cazzo Ball Passa Come si alza la luminosità Come si alza la luminosità Col televisore Lo puoi fa pure Isn't Mortacci Eh ma 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 Che cazzo mi devo mettere Mentre faccio come Ball Che vado a FK Dio tua Bella Tolta Tolta Dai dai Mentre te Ball mi è arrivato in nos Ball che schifo Bella Che schifo Che schifo Poverino Come poverino Tu ve lo buono Ma come povero buono Un tiro quasi 200 Ma non era un tiro E quello è fatto Ah no No Allora Che ne so Dio 70 Dio No Ecco Dio quella palla lì Va presa Va presa Non importa che è fuori Va presa Questo palla qui dovevi prenderla Eh perché ho visto Non si è andato sul primo palo Non si è andato sul primo palo No perché stavo più al centro Perché erano centrati Anche allora Sai perché non hai preso i gol Perché quando Hai visto che non andava fuori Hai fatto benissimo Non ci sei andato Per dire no Hai fatto la retromarcia Se tu Andavi avanti E non facevi la retromarcia La prendevi Fidati Lasciato Vedi che siamo in 20 Pegli alla palla Non si capisce un cazzo Lascia Vai Se ci si va in meno È fattibile così Uh Eh ma se va E anche loro in mille Sono lì Che merda Uno vuoi buttarla su Se vuoi te la prendo Prendo io Prendo io È mia Va bene Vai Vai Tira ball No No Vuoi depilare un po' in aria No Mamma mia Ancora Vedo tre Tre persone che si ammazzano Vedo La prolungata La prolungata Occhio Tranquillo Non mi seguire La prendo io No Perché 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 Non lo voglio capire Che mi sto tenendo Soltanto stecche Non riesco a fare nulla C'è miseria Tutta la partita Che sto tenendo Solo stecche Vai Oddio 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 Vai Non aggia Dove se ho caldo di più Meno male che non ha tirato quello L'ho fatto soltare in ar No no Non era quello lì Ti ho trovato uno L'ho tirato il compagno Da dietro Vai Bolle Vai Dai 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 Cazzo Paccato Dai che stiamo perdendo Su Io vi dico così Non posso fare L'unica Quando ci sono le palle Dovete lasciarmela Che io provo a fare il tiro forte Mi stai rimanendo molto in porta Così non Non aggiungo un altro Al casino Bene 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 Sono smeltato Oh mamma Dai 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 Ho finito in nos Vado a prendere dall'altra parte Buttatela forte su Buttatela forte su Forte 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 No Merda No Che disimpezza ammazza Vai Guardala 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 Tutto da solo E ci pensa Benji ci pensa Pluff Se la alza Se la tira Guardala Pluff e te Bellissimo Dai dai Ma vedi perché in quel momento Eravate tutti impegnati a prendere la palla E potremmo farlo A volte Io sono preso Prima tipo un miliardo di stecche Tira Tira Buonissima Così Vai 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 te Vai te Micchia Era buona però Ero senza nos Ero senza nos Ero troppo veloce Ero senza nos Vai Mi piace Bravo Eh non ci arriverò mai Non ci arriverò mai No Vado io Ok Ok c'è boll in porta A posto Ok Meglio di così non posso farla Non devi buttarti così presto Io ho usato tipo 20.000 secondi prima Ma porca mi ha vinto il contrasto Bravo Yscent Dai Vai vai Yscent Usa il quadrato Yscent usa il quadrato Per fare la 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 rapata Naturalmente non ne pigli Dai cazzo Mannaggia Anche ci sono i mogli in porta Oddio Noo E' un possibile La reforte di lata Bravo boll Vai vai continua Vai vai Ripigliala Ripigliala Vai Yscent è tua Prendete prendete io e resto al centro Eh me l'ho anticipato Me l'ho anticipato Dio Porca corolla Ormai c'è Io volevo Gli è passata la palla all'avversario Cioè non devi passata all'avversario Senti supplementari Eh senti cazzate C'è il golden goal Non voglio dire ma Bravo Vado io se vuoi Vai 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 No merda Ho tirato una stecca Qualcuno No no Perché l'avete missato No Porca te la voglio Ha tirato una stecca questa Guarda Guarda Cazzo Stavo rientrando Ho capito Ma Ho capito Che l'ha missata sicuramente Quello Però porco demonio Eh ma cavole Stavo rientrando in cose In porta C'è uno davanti La prende La butta via No esatto Che merda Gli sento Un saggio Letopaglie Gli sento Qualcosa per risolvere Morale Per caricarmi Per la prossima partita Dobbiamo Vincere per dimenticare Questo è lo slogan Prossimo titolo Vincere per dimenticare Prossimo titolo Di streaming Grazie Con la partita di prima Si è fatta Leggermente meglio Perché c'è stato Un pochino più spazio Non andate Su tutti i palloni Sempre Ognuno c'è il suo tempo C'è tempo per ogni cosa Non è questo momento Burk La stai facendo? Ecco Va Un buon inizio Questo Si inizia bene No Non prendete M*** Penso io Io ogni volta La rubi Mannaggia te Va bene così Va bene così Perché io Dovrei essere L'ultimo uomo Dovrei essere Sessa me D'altro giorno Giusto Polversi Però Pol Mamma mia Mamma mia Come hai fatto A buttarla lì Fatemi prendere il nostro Fammi prendere il nostro Bravo Ce l'ho Sono tolto subito Bravo Ma cazzo Hai fatto benissimo Mi è mancata apposta Quella palla Dio No Non l'ho tenuta apposta Perché se la prendevo male Avevo paura di metterla dentro Mi son fermato L'ho detto Aspetta L'hai fatta apposta Non prenderla Lasciala Troppo tardi Scusa Non importa Non importa No Dai Dio Fai tu Fai tu Ah Peccato Vai Vai Goal Goal Sì sì L'avevo calcolata Pennello Questa Guarda Ploffe Guarda Quale Quello Pennello Vai Goal E tua Vai Goal Oh Per caso Mi è passata Proprio Un Cipi Di rimanerlo Vai L'ho tolta Eh Se si chiedeva Quella era peggio Dio Sì Vai Ah merda Mi sono smardato Pardon Mi ritiro nel mio angolino A piangere Ciao Vai Mamma Mi l'ho tolta Vai Vai Bolta Alta Bravissimo Vai Viene Vai Viene Vai Viene 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 Il mio era un diversivo ragazzi, era per confondere Certo, com'è con i miei, anche io faccio così, anche io li faccio sempre Il bello è che io ho visto come stanno andando la cosa e sono scappato via Ho detto via, basta, vado via Bravo Io ho capito una cosa, quando volete prendere la palla finisce qui Secondo me stai sperando qualcosa dall'inizio Abbiamo faiato in due, bene Oddio Io ho fatto una cosa, ho fatto una cosa La voce ha vista, la voce ha vista Paratela eh Ah io, non c'è niente da parà Oddio sai perché non sei riuscito a far golli Io sogno sempre che c'è un punto morto Tu sei entrato dentro in punto morto L'aria, vedi l'aria quella lì, tipo del calcetto Quella bianca, tu non devi entrarci E prende gli assist, altrimenti non la prende più Ho capito Cioè la prendi se tipo sono tipo iper mega scarsi Che tipo la sciccano tutti E non serve a niente Ho capito, quindi bisogna stare un po' prima Sì Ma? Eh devi stare abbastanza prima Considera che non è errore stare ancora più indietro E più errore stare avanti Ok Ho capito Vabbè Ok bravo La prende oppure no Dai, dai, via, via Prendila E la ce la vuoi Prendila, buttala via Spero qua Oddio, no, se la prende pure il goal del secolo Prende pure il goal del secolo Io te lo dico sempre C'è il goal del secolo che viene una volta a settimana, via Considera Eh beh, sì, eh Vol, che fai? Mi guardi? Bello Bene, bene, bene Vai, vai Stando Ah, merda Mi hanno fatto esplodere Bravo, Vol Bella questa presa Vai Questa è la per te, Isen Eh, troppo Ma usa e nos prima Usa e nos prima Dai che l'ho bloccato un po' Ah, l'ho spirata Scusa, ho sbagliato Merda Mamma che casino No, ne eravamo andati in vinti su quella map Non è siccome la map Dai, 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 dai Ok Nel più forte così non ce la verso Vai Ragazzi, vedi che Se ci andate in due Quello dietro non capisce una mazza Non riesce a prenderla Chiamatevela in casa Sì Dai, mettiamola in mezzo Ah, cazzo Bella Bella Era bella, era bella Come te, di nuovo Dai, dai, dai Eh, che sfiga Non è possibile la plata assurda Parata, che cacchio L'ho tirata più forte così la puoi prendere Allora, togliamo, era Fuori Dai Prendo il nostro, io Porco il clero, ma che E' un'altra Ma che cazzo Sì, a sua son Merdo, gliel'ho passata quello No, tirata fuori Tirata fuori Tiratamela su, tiratamela su La voglio, la voglio in quel posto Eh, la voglio in quel posto Eh, perché bo lo sa qua No, adesso No E' soppressato dopo che sei stato a carne Ai 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 3 a 1, va bene Deve essere sud Una tre quarti avversaria È abbastanza alta Leggermente sopra il tetto No Se vuol dire Anche tre quarti dell'altezza del campo Sono i rinvii e la rio Anche il rio lo sa fare Sì Boh, perché ti sei fermato? A me l'ha finita Tieni i bol Tutto per te Oh Ma hai cambiato il latte Adesso è latte E' succo d'arancia E' succo d'arancia Quello è merda No, è anzio E' un po' squacquarella Dopo che hai visto quel video Esibito best off Hai qualche domanda da fare a bolle Nel rente a quel video? Aspetta, quale? Quello video? Best off mensile Quello lì Ah Non gli faccio domande Sennò va a Effect up Oh, la mappa Quella relativamente nuova Che è un po' una merda Esibito best off Va, scatti a caso C'ha un anti-lasing schifosissimo E mi fa anche cagare come Mi fa cagare, appunto Comunque manca Manca la tua classica sclerata Esibito Ancora non l'hai fatta C'è gente triste per questo Eh perché No, boll Perché? No, boll Babbè Lo dico subito Annaggia a voi Noi siamo i blu E devi metterla nella porta Arancione rossa Ok Il vero gioco che mi fa sclerare è Call of Duty Lo sapete Sì ma non hai fatto la tipica sclero Oddio Insomma La tipica frase sclero Sì ma non è sclero Oh mio dio Goll Guarda come l'ho mirata qua Guarda eh So che d'è Bella Ma non è stato più i tornei di Rocket? Probabilmente li faremo Perché si sono un po' spostati di piattaforma Però li ho fatti Ho fatto anche i europei Eh sono andati malissimo Una volta anche il secondo posto abbiamo fatto Persa Con una tiltata in finale stupenda Da topaglie Del tipo che si è preso Dei gol assurdi Portavuota Ho capito La rimetto Eh no È rimbasata forte Bolli mi ci sta fermo Torna subito indietro Appelo eh Ma qual è la frase Tipica Come? Eh PD vai Gol Bene Non c'è bisogno di sclerare Ha ragione Isent Eh Ha ragione Isent Guarda Sono cose che avvengono dal cuore Porta che c'è Jar Jar nell'altra squadra E quindi va Qualcuno lo distrugge Per cortesia Ah no Abbandonato Non lo va niente A posto No Ci sono ci sono ci sono Quindi la premia Mi ha detto tutto va Bello Beh come questi Questi non stanno quittando per ora ma Guarda là Ehm Vabbè E allora Allora gioca tu Mmm Beh interessante Sapello io Che ridi ball Che hai visto Ma Oddio Ma Ball sta facendo il suo schifo del previsto Cosa succede Ho guardato il video di Tom Ma perché adesso hai guardato Perché poi l'avevi già visto Perché adesso Ehm Che pensavo che la buttavamo via Tra gli easy invece no Vabbè 3 a 1 dai Un po' Una speranza che la devi dà Se no poi quittan davvero Ma quando ha il calcetto Ma perché stai andando Stai tiltando Ecco Sta laggando Ma cosa sta laggando Rio Oh no Per fortuna che Non è scarso Manca solo che ci recuperano questi Vai buono Perché sei tutti e tre Al centro Non c'è uno un pochino più avanti Uno un pochino più indietro Eh niente Dai Anti-aliasing Anti-aliasing No Io se me la passavi come li messo Era gol Perché l'ho messo perfetto Per quel passaggio Vai vai in mezzo Vai 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 Guarda come l'ho fregato Quello lì Ehm No Vai Quello Ah No Ce l'ho io No No Come cosa sta succedendo la laterale Non mi ricordo Come è il salto la laterale Eh X-X di lato Ah Ancora Ancora Ma cosa sta succedendo qua Ma che ne so Eh in parapiglia Lasciala E' il genio comunque più contento da quando abbiamo messo roba Mamma mia Hai visto Ehm Attenzione al gol Poker di Gol di Benji Sì Guarda Se li dribbla Se li fuma La mette dentro All'angolo Ma è loca del porro Mamma mia Sì Tra porro la del porro Giusto Isent Qua però Woohoo Noo Porca Bagassa Ciao Oddio Ops Cos'è successo Alla gata sotto Eh Perché sono andati via Tipo in due Dai cazzo Su No Ho detto Rio Ho detto Rio Eh sì Rio è un cane Infatti Ma no Noo Miche Perché l'ha tolta Dai Tira la Rio Dai 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 Adesso ti frego Adesso ti frego Adesso ti frego Adesso ti frego Stai ricordi che eravamo Tutti e quattro In un metro quadrato Di campo Sì sì Beh Adesso ti frego Adesso È 4.50 E poi Fai Dovemmo farcela Porca puttana Porca troia Eh lo so Sei unita a Samara La partita Io spengo tutto Per sicurezza Un secondo Attenzione Trovo il nome principale Torno al nome principale Torno al nome principale Sì Anch'io No no Sì 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 Eh Arrivo un secondo Rio rinvitami eh Ok Acqua ti saluto Buonanotte Oh Benji Oh Benji Finalmente Vai a dormire te No Devo finire di fare Le ultime partite E vado Sono con 4 persone di là Gli ho fatto Interrompere le partite Dai Bravo Allora Benji Fai così Io visto che sto aspettando Zampa Prima di andare a dormire Passami a salutare Non adesso Quando venire a andare a dormire Ok Non ho capito niente Zampa Adesso arriva Zampa Quando te li vai a dormire Torna qui e salutami Ti aspetto qui Ma perché? Eh perché voglio salutarti Prima di andare a dormire Voglio sentire la tua voce Adesso sto facendo un paio di partite E poi Dai finta che sto andando a dormire Dopo questa Ce l'ho adesso Non posso tornare dopo Ma io Tutto quanto stacchi? Ma fa pochissimo È niente che torno di nuovo Fa pochissimissimo Facciamo l'ultima partita o due Ma durano 4 minuti le partite 400 minuti Vai vai Davvero Ok Quando stacchi Passami qua Salutami Ti aspetto Vabbè Ok A dopo Benji Ciao ciao Eccomi Arancioni Con l'auto arancione Ma dove stai parlando? Sto parlando con Miam In chat Tu non segui la chat Di Twitch Leicent Non puoi sapere La stessa cosa Ma come è fatta Sega? La Wicent Ma cosa vuol dire? Sgarbato che non sei altro Il quale cambia Del livello di guida E il tipo di macchinina Però Ma forse cambia Il tipo di guida Non cambia La potenza E il Cambia sotto Solo devo detto una volta Cambia sconto La gestione Di quanto la macchina sterza E si comporta in aria Poi la velocità E il salto E' uguale Ma ragazzi Siamo dei disperati Non seguiteci Non guardate Sta roba qua Sai che vuole l'fk Anche all'inizio di sta partita Me ne sono accorgato E vabbè Ma io credo che Si sento un problema Una storia dietro Ma che cazzo io l'ho fatto? Oddio No Non ci Non hai fatto Non hai fatto Guarda che per metterla lì sulla riga a due dita dal gol Non avete idea di cosa ho dovuto fare Dai da Oh Vabbè Ma questo santo Faccio delle parate impossibili Faccio Voi Siete dei cani Guarda che cosa ti posso fare Ma sembrava Ebrahimovic Guarda che bomba ha tirato Ma cos'è Ebrahimovic? Questo santo Se io la paro E' come se nel basket C'è il tizio che prende il rimbalzo No? E tutti gli altri mentre lui prende il rimbalzo Volano in aria e vanno dall'altra parte del campo Così a caso Ma che senso ha? Beh per prendere subito la ripartenza Ma non è così Ma quale ripartenza sa mi esiste ripartenza? Cazzi L'avevo toccata? Buona So che l'avevo toccata Sì Questa me la passo Ma vedi altra cosa sbagliata Allora aspetta Io ero nella fascia Giusto? Ok? Perché eravate altri due dopo un me Nella fascia? Che senso aveva sta cosa? Quando è ben g nella fascia Voi state o dietro O state al centro Perché se state dietro Magari prendete il rimbalzo Che fa al tizzo davanti Poi ti sconsiglio come la morte Di fare retromarcia Proprio la cosa peggiora Che puoi fare in questo gioco È la retromarcia Girati e cammina Vai bullet Me la dai Sembra un passaggio del Vangelo Girati e cammina Ma che è? Girati e cammina? Quello sarebbe Azzaro Che non va bene Sì Dazzaro Girati e cammina Lascia la via No no La prendo La prendo Guarda la porta una porta a rubare Guardalo Guardala Guarda Guarda le bolle Finalmente Benji segna un gol Dopo un lungo digiuno Guarda 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 come si scava di rubare Guarda 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 Come si impegnava Alico Preneva Più a più Un po' sul cerchio Il paradosso della tartaruga e la lepre Sembrava Ma lol Ma chi era la tartaruga e chi era la lepre? Eh le bolle Quello indietro era la lepre Quello davanti la tartaruga Ok C'è del pericolo Vai Oddio Oh mamma Come di così io non posso prendere da dietro Da dietro Da dietro Oh oh Basta a cattaruga dai Vai 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 Non entrava Sorpresa io non entrava perché ero fuori dalla porta Mamma mia Boll Un po' con ci scontrava in aria Mortale Ma perché se è andato in porta con passo se la palla era ancora in attacco? Ma c'è Boll? Eh C'è C'è Ma triste È Bolltello gorroico Sto un po' fastidio Ma No ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato La smerdata La smerdata Mi spiegate sta cazzo di cosa Perché questi fanno delle scie viola verdi Che cazzo di sostanze sputano da quella marmita? Io ho la roba bianca Adesso dopo lo vedi se vinciamo Mamma mia La roba di dire è orribile Ti devo preoccupare Sì Sì ti devi preoccupare Se sei in vp occhio Se per caso arrivi in vp occhio Cioè questi tirano le scie chimici con la macchina Esatto Fanno i scie chimici con la macchina Magari forse mamma mia buco Cosa mi ha sencarla lì No cazzo Vabbè ma io ho un deficit neurologico Non è possibile Oddio Io l'ho salvato al pelo Mamma mia I gangli della base sono andati a puttane Non riescono più a coordinare Mi sono a commotorio Non mi fai ridere Io si sperde Oh man Io ci inizio Io ci inizio Certo Ti stai male voi Ecco Ecco Porca troia E dai Cazzo mi fai ridere Se mi ferite Mi faccio quei salti Mi figlio male Che pollo anche Cacchio Cazzo ti guardando le lucine dei palazzi in fondo Ma che cazzo Guarda che buone lucine Ragazzi voglio vincere Eh Guarda l'ho salvato di nuovo Guarda che ne sto sto facendo miliardi Voi non avete idea Forza forza Buttamela di là Buttamela di là Bravo Dai Su È dentro Oddio Oddio No ti prego Fai gol Uno No Vabbè la madonna che vi ha fatto Dai Ma che cazzo Io passo la come tu sai fare È mia Mi ho messo la qua santa Solo a rimuovere la porta Ma che cazzo è Ascom Mettetela in mezzo Va lo faccio io Questa L'ha presa Occhio Ragazzi Dovete metterla a me Dovete metterla a me per forza Buttatela su Ragazzi buttatela su adesso ci si fa Buttatela su A me Buttamela 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 dentro Vai No 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 Siete cani Siete cani Siete cani Mi piace Il primo corso è regalato Cacca Io sono pronto Ma io ma perché hai detto Yoshimitsu prima? Ma non ho detto Yoshimitsu Dove l'hai sentito Yoshimitsu? Vor mi ha detto Berge ma secondo te come sarei su Tekken? Insomma se vai a FK su Tekken ti fanno vedere bene Quali sono le conseguenze dell'andare a guardare i video porno mentre si gioca Cazzo sono andato a FK un minuto e sono già sotto di due round Lo sai che è un game su cui ho provato Tekken 7? Alla PS4 Ma come ti è sembrato? C'è da rimparare tutti gli elettrici Mingha Sì Primo Secondo Le combo vanno rimparate Non funzionano più come Tekken 6 Si farà un po' di stupi È presente Tekken 6 no? Certo È presente Tekken 6 Che poi è stato upgradato su Tekken Tag 2 E proprio è stato upgradato Eh bro l'ho giocato poco Tekken 6 Eh però è stato upgradato Nel senso che puoi continuare da dove su Tekken 6 finivi Qua invece è proprio cambiato Proprio cambiato Non Se tu fai la combo uguale a prima Non succede niente Cade per terra Ho capito E gli elettrici non si fanno più come prima Eh quello è anche a causa del dipando della PS4 Quando lo facevo normalmente non veniva Ho dovuto forzarlo a besta e allora veniva Ho capito Sono iniziato a fare nei 3 di fila con Katsuya Quindi vuol dire che si può fare Però è difficile nel senso che va cambiata l'input mentale Di come ti è abituato nel vecchio Di sicuro colpa del pad ovviamente Ma hai giocato contro gli Ushimitsu No cazzo Oddio Oddio sta andando male Non andare le tromace No ti prego Toglila 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 Bravo Merda Senti con me come soffre Isis Avete preso Gintu due volte? No Ma se lo contro di te la seconda volta Perché Bolsa giocare a tecno? No però non c'è nessuno con cui provarla Ragazzi stiamo facendo cagare Proprio cagare Carissimo Se ci fosse una telecamera dall'alto Che ripiende i nostri movimenti Siamo fatti a cazzo di cane Tutti che vanno alla parra Tra l'altra È presente quando butti la palla In un ugo di bambini Di cinghiali che vanno a prendere la palla Bello Sembra la partita di calcetto No vabbè Sembra la partita di calcetto di stasera In cui praticamente c'erano Due miei compagni Diciamo Vai Bol uno schifo eh Proprio schifo Merda Accentrati vicino all'area avversaria Lascia la Bol Non prendi io quelle palle Lo puoi capire Che tu devi andare in mezzo a fare i gol Non puoi andare e cercare di rubarmela Come se ti togli dal campo Dicevo C'era uno a sinistra Totalmente smarcato E due accentrati Per l'ora di andare a letto E praticamente Questo che era libero Io l'ho passato a questo Che era completamente libero A sinistra E questo appena gliel'ho passato Ha iniziato a fare il taglio Però andando Praticamente dove c'erano gli altri due E quindi Elimini Elimini gli altri due praticamente Dal gioco Eh sì esatto Vi rendi inutili Esatto Eh quello che stiamo facendo noi in questa partita Stiamo facendo il taglio Stiamo facendo il taglio Che cazzo Eh esattamente quello che stiamo facendo noi in questa partita Fan brodo L'ho smerdato io quello Potete andare a prenderlo Io ho scelta di tempo pessima Pessima scelta di tempo No è più che altro è pessimo come sono andato Perché l'avevi presa Eh beh Eh la scelta di tempo del salto Ma ce l'ha da Bull dietro La scelta di tempo del salto Devi saltare molto prima Dopo due o un secondo Ma è andato perché ce l'ha Bull dietro E poi vero è scomparso Ragazzi se vince Se rimuo le palle Ma è Bull tira Bull ma Ma va Da me è stanchino Bull Di solito se loro non li fa Oh a me non sta arrivando una cazzo di pallo Va in zona di attacco Se vuoi te la tiro io però Eh ma dobbiamo anche recuperare due gol Allora vai su vai su Vai su vai su Vai su che te la passa Vai Merda Merda Non si può sbagliare queste robe però eh Cacchio Cacca Minchia cacca Meglio di così come cacca devo prendere Eh meglio Non potremmo voler andare troppo in avanti E poi era un casino Vai Ma no non c'è possibile Non c'è nessuno in porta Perché ci stiamo Sdannando per fare un gol Sì ma Cristo santo Vabbè ma guarda che curo Sì ma ho capito Ma prima Prima che Cristo Vi ho preso 20.000 palle Non si è fatto un gol Eh vabbè io non ho sbagliato una Che cavolo Mamma mia Se sei cotto mi sa Non ne sto più prendendo uno Io li sto salvando continuamente Dai 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 Proverete a tirarle in avanti Io non ho più no Sì senti Non posso più Non posso tirarti un cacchio Sanno completamente il controllo Loro non riesco a toccare palla Prima è che a me non mi arrivano assist Gli assist che metto io non fate gol voi Quindi è un limbo infinito Asha No male male No ragazzi Perché sono stati in due Nella stessa zona È come se saranno in due Andiamo Io non potevo arrivare Non c'è nessuno in porta Non c'è È come Gli senti Quando se stessimo giocando Uno contro quattro Uno contro quattro Uno contro quattro Eh sì Infatti Me ne sto ancora rendendo anche conto Cioè Proprio È sempre Quattro Che la tirano dove voglio Vuole fk No io non voglio vincere Prima di andare a letto Voglio vincere una Vole vuole andare a letto Vincere Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Vuole Bull 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 Stai dormendo Bull Cazzo, Bull, lo so sicuramente la tua metà. C'è incredibile. Bull, c'è la prova definitiva, eh. Bull? Bull! Maio, Cristo Dio! Oh, c'è vinto? Eh? E poi... Beh, vabbè. Bull, vuoi andare a letto che sei stanco? Vai a letto. Tranquillo. Oh, Dio Dio. Sì, sì. Eh? Ma... Ma si droga? Bull, vai a letto che sei stanco. Vai a letto. Tranquillo. Vai a letto che sei stanco. Facciamo le ultime partite. Vai, vai. Facciamo le ultime. No, vai a letto, tranquillo. Ma no, dobbiamo vincere. Bull, io vedo che stai facendo top agli allucinanti, quindi se non me devi andare a letto. E riposati. Sì, sono un po' fattino. Pensaci su, Bull. Pensaci sopra. Prenditi il tempo che ti serve. Eccolo, questo è da vincere, eh? Questo è da vincere. Ah, Bull, scrivimi. Ma stai dormendo sul cuscino, Bull? Eh? No. Cosa? Ma? Vabbè. Sono... Ci sono, ci sono. Devi andare a tu, Bull, eh? Bull, prima di andare a lettino a dormire, farla, farla Nin. Ah, ma te lo scrivi lì, te lo scrivono giù. Buona. Viva il ciliegio. Certo che te lo scrivi bene, Isint. Ah, bene, bene. No, non posso, non posso scriverla, non bisogna perderti. No, no, questa è da vincere. Non cazzeggiare. Lasciatela. No, c'è... Ti fai saltare così. No, Isint. No, fanculo, ho sbagliato a tasto, anch'io sto stanchino. Vai, 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 vai. Vai, Bull, salta. Un attimo. Oh, bella. Oh, no. Bello, 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 bello. Ascolti, ascolti. Eh? Non c'è che abbiamo? No, non ti hanno spinto. Eh, lì sì, alla fine sì. Però l'hai messa tu. Guarda, non c'è un cazzo di arbitro per lamentarsi? No, non c'è il truppo. Non ti lamenta a munizione. Fermi, 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 no, fermi, cazzo. C'è la bole già qua. Ma che è? Bull, ma perché stai facendo dei sospiri e delle ispirazioni di un certo livello? Bravo, io sento... No, io, 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 io! Bravo, 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 io. Tonta, 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 tonta. Non mi ha assustato il suo. Assurdo. No! No! Ha avuto tutto il tempo, è facile. Eh, il cavolo, ha avuto tutto il tempo. Micchia. Era più bella. C'è quella in prima, se hai gannato. No. È la più... Tecnicamente la più facile. Però si va più in reazione. Micchia. Oh, no! Dai, cazzo. Porco il clero. Se mi ha rubato il nostro, è finita, io ve lo dico subito. Io ti nemmeno come se ti era il D. Dai, 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 dai. Guarda, ti dico così, non fa tirarla, eh. Eh, prima è quello, è tirato troppo forte perché si è andata in due. Eh, perché abbiamo partito in due. Eh, lo so. Eh, il D. Che ci posso fare, D? Senti, ricordati che c'è il punto limite dove non puoi passare. Mi hanno fatto esplodere, Gesù. Bravo, io volo, volo. Mi volo così a caso, non si sa mai. No! Merda! No, fuori. No, poi me l'ho rubato in nos, eh. Sio, serio, per poco non ti spacco la macchina. Mamma mia, cazzo! Cosa cazzo, cosa mi ha tolto? Bastardo! Oh, cazzo, è fuori, fuori. Bella! No, fuori, fuori, fuori quella! Oh no! Peccato! Peccato, peccato. Bravo, io sento, va bene. No, porco, giudo, vada lì. Abbasso il rio. Piffete! Vai, 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 vai. Vai, isn't tua. Eh, mi piace, sono lontano. Male! Ma cazzo, la prendevano. Stavo prendendo il turbo, oddio. Ma lo sono anche già giocato. Prendo un'altra. Mi ha chiamato una stecca a me, io. Sì, sì, eh, parlo, parlo. RULE! Andate, andate. Dai, dai, dai. Ho teviato al pilo, eh, andava dentro. Lasciatemi il nostro, eh, niente. Allora, lo dovete prenderla voi, eh. Fogli, mi fogli. Ah, oh, merda. Io appena ho visto tutti qua, mi sono allontanato in baga quello che si è detto prima di non andare a più. Bravo, io sento, bravo, io sento. Minchia, come cazzo l'hanno preso? Nooo. Non l'ha riuscita a prendere, è troppo poco lusso. Oh, cazzo. Non potevo fare altro. Non potevo fare altro, io. Cacchia. Cacchio, cacchio. No. No, però un pelino più di nostro l'avrei presa, quella. Cazzo. Con questo l'ho sempre messo a cazzo di cane, eh. No. Eh, sì. Ma... Oddio, va bene. Va bene. Grazie, grazie, grazie. C'è un teo totalmente incagato, ha fatto. Guarda, vediamolo. Vedi, vedi a far ritornarci che succede. Vedi che succede a far ritornarci. Vabbè, ma ci sono anche schiantati come due scemi. No, ho preso colpo prima che si schiantassero. Dai, sì, però. Faccio più sempre a nuotare. Cacchio ridico, ricordo che questa partita la dobbiamo vincere per forza. Ma perché ridi, è caso? Boh, perché ridi, che cazzo? È partita, è partita, è partita, eh. È partita la cimia, vai, Boh. Ma perché? Ma... C'è lo spider, c'è lo spider, c'è lo spider man rio, c'è. C'è spider man rio. Ma... Fallo, 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 fallo. Fallo, fallo, fallo. Ecco, perché si fa. No! La fatta che sbaglia, vaffa il culo, metti da dentro. Fallo, fallo, fallo. Fai anche a strozzare, di umore. Oh no. Sì! Idiot. Succa. Succa. Ah, tieni bollo a bianco. Ah, tieni... Ah, oh, oh. Ah, mio zio. A posto. A posto. Lisen, te che ne pensi, queste topaglie? Perchè non sa. Iniente, altra cosa da raccontare di topaglie? Ci sono state, non possono essere così poche le topaglie. Boh, tipo che oggi non volevo assolutamente giocare due partite di fila, però... Cioè, non volevo giocare perchè ero un po' stanco, eccetera. Non mi sentivo molto bene. L'organizzatore della seconda partita però mi ha pregato, dicendo dai, cazzo, trova la voglia, bla bla bla. Vado al campo e alla fine l'organizzatore ha organizzato ma non ha giocato lui perchè non ne aveva voglia. Ma che bello! Ma che cazzo di gente! Vabbè. Senti, come fai a non diventare pazzo? Dico solo questo. Che gente, vabbè. Senti, io ti dico solo questo. Boh, lo sai che tipo c'era un fattore di 0,1% di non far gol lì e se ci dobbiamo fare. Notte mia, grazie. No, adesso andiamo anche noi tanto. Sì, teniamo questa. Senti, sai che è molto probabile che vado... Se vengo in Sardegna quest'estate ci spariamo a Tekken e soprattutto voglio fare le partite di merda. Allora, io voglio capire cosa è successo e che questa è epica, eh? Guarda, 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 guarda. Cioè, io per fare questo passeggio qui, cosciente di difficoltà, 0,9%. Hai visto? Un bel passaggetto. Ma a me ha dato anche i punti come parata epica. Ma fai un giro! Sommade. Non capite un cazzo. Senti, ma quando vengo, io gli ho organizzato una partita topaglia, voglio, eh? Ah, sì, 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 lo organizziamo. Io non potevo fare... Ti faccio venire più più. Eh. Il meglio drogati di carbonio. Certo. Poi basta che siano 10. Ma per te è un problema se fumano mentre giocano. Ti è mai successo? Sì, sì. Come sì, sì? Ma cosa fumavano? Roba assurda? No, 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 sigarette. Ma ce la facevano a correre? Ma chi cazzo corre? Ma come chi cazzo corre? Ma possiamo dire una cosa? Ma questi sono così scazzati, perché giocano? Ma che cazzo ne so? Ne lo sono chiesto anch'io. Infatti oggi, dopo metà partita, mi sono rotto i coglioni e gli ho detto... Ah, no, ecco perché. Allora, a parte che oggi, alla seconda partita che ho fatto, a parte ho fatto uno dei gol più belli tra quelli che ho fatto. Dopo un tiro assurdo a girare che ha preso palo-goal all'incrocio, però, da furiare. E comunque mi stavo veramente ammazzando per giocare bene, perché tutto è nevo, avevo stress da scaricare, quindi proprio ho messo tutte le mie forze. Eravamo 3-0, entra questo in porta, hanno fatto 4 tiri dal centrocampo ed eravamo 4-3. Ma che cazzo c'è? Ma ci metti un ferro da stiro è meglio, eh? Mi sono incazzato e sono andato in porta a tutto il resto della partita. E non hanno più segnato. No. Io mi sono fermato per farlo fare un trucchetto, rio, ma mi sa che l'ha toccata qualcuno la palla dietro. Eh, mi sa che l'ho toccata io. Eh, allora il trucchetto fa un c***o. Vai al passaggio, lì. Ops, pardonismo. Uh, dai dai dai. Ci siete? Ci sono, ci sono. Eh. Stiamo perdendo, ma stiamo perdendo. Sì, stiamo perdendo 1-0. No, ma cominciamo, che c***o. Vado io, vado io. Beh, è un 3-3 che crede. No. Ma c'è Bola allora, non deve fare l'ultimo. È rimasto. Sì, sì, ma c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Oddio, gol. Bella. Ho fatto il cavatappi, guarda. Buono. Vediamo. Ehm, vabbè. È giocato. È vero, io sento, non l'hai detto, eh, non è giocato quando eravamo su COD. Parnaggia. Eh sì, perché se ne andate in quattro sulla palla, che era la mia, e basta. Chi era dietro? Guarda, era solo mia la palla. Tutti lì sono andati. C'è Isis, dietro. Sì, ho capito, ma se ne andate tutti, non ha senso, non la prendete mai la palla. Ehm, cosa devo fare? Hai sbagliato tutti, non io. Hai sbagliato tutti. Lui non va avanti, perché prendetevi un pallo se rimane ferma. Ma no, hai sbagliato tutti. No, no, ma dietro non contate su di me, non so assolutamente parare. Cavolo. Di cazzo santo, avete sbagliato tutti, punto. Non doveva andare avanti nessuno e siete andati avanti tutti. Questo è proprio da incazzo. Questo è un gol tofaglia, eh. Ecco. Vaffanculo. Buono, ma lei che non ne hai piaciuto quella palla, eh, perché sai dove andava. No, io sento. Si capisce più un cazzo, sembra. Tiramelo su, tiramelo su, tiramelo su, tiramelo. Sembra una festa a casa di noi del santo, veramente. Ma che cazzo c'è? Vabbè, dai. Mamma mia. Vumete, vumete dentro. Sto dando anima e corpo, tutto, eh. Anima e cuore, certo. Sentite, ma partitina con Love Beauty. Vabbè. Finale? Certo. Vabbè, vabbè. Come stai scherzando? No, mi sto scherzando. Su COD 4, giocheresti su COD 4. No, 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 basta COD. Neanche COD 4. Ma COD 4! Ma che cazzo è quello? Ah, dovrei comprare, dovrei comprare l'Infinity per poterlo usare. E quindi? Non ho la minima intenzione. Vai, vai, senti. No! Ma non lo metti il disco. Ma mi ha lagato tantissimo, anche a voi. No, 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 mamma, bravo io. Sono super laggata. Super laggata. Stiamo andando verso la palla e deve riapparsi appena dall'altra palla. No, no, non lo stai segnando. Lasciala, lasciala. Dai, dai, segniamo, via. Vai, è vostra. E vai. Perché non ce ne sono in mezzo? Perché siete dei cazzo di cani. Avete ancora capito, dopo un minuto di partite, che non si fa a pigliare quel cazzo di passaggio. No, perché ball? Perché faccio io l'assist. Vai in mezzo. Oh, piglia, 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 shit, potente. No, no, non voglio fare. Dio. Dio no. Oh, oh. Lo sapevo. Ho fatto un rimbalzo merda. No, no, è possibile, ragazzi. Ho fatto un rimbalzo di merda lì, guarda. Ragazzi, ragazzi, brutta lontana. Perché regalai? Ragazzi, brutta regalata. È uno schifo. Io ho dato tutto il master per cercare di metterla, qui in 60, di 60, di 60, di 60, di 60. Di topaglie siete? Cazzo di topaglie, ha fatto una merda, ha fatto. Mannaggia, l'ultimo, l'ultimo. Ma Dio santo. Basta di quitta. No, vuol. Vuol quitta. Il quitta vuol, il quitta. Vabbè, ma si può fare 3 contro 3, cioè? Certo che c'è. Eh, voglio, allora facciamo 3 contro 3. Vabbè, diamo, diamo. Bolle, un saluto cosa vuoi dire? Un saluto festoso. Bolle, un saluto a Vizent? Sotto Vizent? Fa bene non comprare quella merda di Cod. No! Come? Bravo, bravo. Vizent, sei ancora giocando online, mi dice. Devi toglierti della partita. Davvero? Sì. E lo aspetto su Tekken 7. Se lo prenderà. Certo che lo prendo. Vizent, ma tu devi prendere Cod. No, no. Codati. Ma so tanto perché c'è divanzato a VT Warfare solo per quello? C'è il DM14, c'è. DM14? Ma con D4? Dale. Eh, no, no, ma non mi interessa. Non posso, veramente. Vabbè. Non lo compro. La Tekken lo prendi? Ma poi? Sì, sì, Tekken. Sì, ma quando esce? C'è scritto... L'anno prossimo, inizio 2017. Un paio di mesi, ancora bisogna aspettare. Sarà meglio per te che lo prendi, almeno quello, se no so calci. Ti vengo a casa, vengo. Ma non è da prendere. Sarà meglio. Live, insomma, così ti faccio... Sì, così ti faccio il culo. Sì, sì, sì. Il culo live? Certo. Come si deve organizzare qualche cosa di topaglia? Bene. Un inizio, proprio... Sì, sarei dovuto uscire qua, sarei dovuto uscire, perché... No, no, il problema è un altro. Eh, il problema è un altro, che non puoi risolverli, quindi niente. Eh, non lo posso risolvere, no. Mi dispiace. Ma è soltato Vol. Oh, Vol. Eh, sì, penso di sì, è salutato in un modo o nell'altro. Ti sento, cosa ne pensi di Bull? È matto, completo. Lascia, lascia, non va dentro. Ok. Non è difficile da prendere, no? Schifo. Eh, non ho nos. Non ho nos. Che faccio? È saltato troppo presto. È saltato troppo presto. È saltato troppo presto. Eh, ma il nos? Dove lo prendo? Dove lo prendo? Guarda. Semplicemente andavi avanti e la prendevi la palla. Ma che andava avanti che in aria quello? No, no. Io, se ti vuoi fidare, fidati. Dovevi andare avanti e prendervi la palla. Sei rimasto fermo. E poi ti senti fatto quest'alto da trent'anni prima. Io ne ho preso palle molto più lontane di quelle senza niente. Semplicemente devi avanzare. Non devi stare fermo. No, managgio. Eh, vabbè. Io sono sicuro al miliardo per miliardo. Potrei farti l'arrentatore e vi diretti mille volte il replay. Semplicemente dovevi appena vedere la palla andare avanti, doppio X avanti e la prendevi. Ehm, non c'è nessuno. Oddio! Oddio, che carica mi guarda? Oddio, quello assurdo. Questo è un quello assurdo. Guarda, Isente. Vediamo. Non si crede. Ehm, perché hai scelto i miei pedali dal limite dello schermo del viplo? E questo gioco è una merda. Ha fatto vedere la telecamera sulla palla. Ha fatto vedere cosa ho fatto nel mentre, in aria. Hai min to pass? Che dice? Che voleva passarla. Mi ha detto. Eh, ok. Gli ho fatto la foto. No, anche se la prendevo non andava dentro. Era buono il passaggio, se non c'era nessuno. Minchia, che sfiga. Per un pelo l'ho preso. Bravo, Isente. Bravo, Isente. Pelo l'ho preso. Oh, che fa questa? No. No. Giuss. Giuss. Eh, tipica espressione carboniense. No, è duro, duro. Mmh. Vai. È buono, non c'è nessuno. Ah, peccato. Alla mette dall'altra parte. No. Eh, non era difficile. Devi guardare dove hai messo la macchina. Vedi, guarda, guarda, guarda. Vedi che si posa tutto dall'altra parte. La mette per forza da quella. Non è altre. Non ha altre alternative. Può metterla assolutamente da quella parte. Tu esci tutto da quella parte qui, la rubi. Eh, non lo so. Minchia. Troppo solo per me. Ma cosa, troppo solo? È la semplicissima per... Quella palla di... Vabbè. Perché te l'ho data volontariamente? Minchia, che era solo, è certo. Che era facile pure da prendere. Semplicemente devi vedere dove si mette lui. Per me non sono facili. Sì, cazzo di... Assolutamente. Ah, non hanno i piedi. Ma per me non sono facili. Ma per me non sono facili. Ma per me non sono i piedi. Se ti mettono a destra, tra queste... Non importa. Io ho un input diverso della palla. Ma cosa cazzo c'entra l'input? Basta che... Cosa ho detto? Io la vedo in un modo. Ma cosa vedi? In un modo la vedo. Ma cosa... Si è quadrato. Non riesco a capirlo. Ma come capito lo spiegare? La vedo in un modo la palla che stanno in quel punto. Ma c'è l'input live che c'è nel monitor lì. Io sì, io c'ho l'input live mentale di questo gioco. Ma non è vero. Cercano di spiegare venti volte. Ma lo sto cercando di spiegare. Ma non è vero una... Ma se giochi a Tekken che è un miliardo di volte più difficile. Non c'entra un cazzo Tekken. Certo che c'entra. Tekken è Tekken. Questo è Tekken. Ma non è Tekken questo. Ma stai dicendo un sacco di cazzate. Ecco. Ecco, grazie per la spinta. Dio, sentate soltanto di vedere. Quando c'è la palla attaccata al piede. Se si mette a destra la tira al sinistra al 100%. Basta che ti butti la palla. Ma volete che diceva attaccata a destra. Lui non è che diceva attaccata a destra. No. Ma che dici? Sì. No. Ma no. Ma riguarda il replay. Ma guarda il replay. Ma posso scommetterci la casa. Tutto. Era a destra. Era la mia a destra. E lui l'ha attivata a destra. No. No. Lui ce l'aveva a destra e la tira a sinistra. Come cazzo fatti alla stessa parte? È impossibile. Non c'ha le gambe. Come cazzo dici? Vabbè. Vuoi che faccio i video di rubrica per poi insegnare come fare la roccia? No. L'ho visto. L'ho visto. Ma non mi interessa. T'avevo detto che lo vedo così. Ma cosa vedi? Nell'istinto vado così. Ma cosa c'entra l'istinto? Non ci posso fare nulla. Ma non c'entra niente l'istinto. Non lo cambio l'istinto giocandoci due volte. Non ci dobbiamo giocare a mazzo. Ma non è istinto. Non è istinto quello. Ma cosa c'entra un istinto? È istinto. Ma... È istinto. È quello il tuo problema. Tu vuoi diventare un istinto. Oddio che... No. È istinto. Punto. Sono un c'andrese. Sono un pari matematico. È matematico. C'è da questa parte. Vado dall'altra. E allora. Vabbè. È sicuro 100%. Ho capito. Ho capito. Ma non ce la faccio. Non ci arrivo. È istintivo che vado da quella parte. È una strunzata. Perché so come sono. Ma sai... Ma sai... Ma fai cose vintimili a potere più difficile su questo gioco di quella. Non c'entra. Niente. V è diverso. Mamma mia. Sendo me stai sottolontando te in modo incredibile. Ti stai sottolontando. Ti avete capito di cosa sto parlando con l'auto di prima? Sì. Boh. Più o meno. A me sembrava nei soliti discorsi da anni. Ti ho sentito anche il mitico inconfondibile. Esatto. No, non è che ci vuole tempo. No. Ci vuole tempo oggi. Ci vuole tempo. Ti sottolonti che è una cosa che ti sottolonti tu e sopravvaluti la cosa difficile che è una puttana. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Secondo me se te la faccio dire... La vedi in un modo. Non vedo in un modo. La vedi in un modo che va in quel modo e vado lì e basta. Che c'è da ridere? È normale, istintivo. Purtroppo la vedo lì. No, no, secondo me la stai sopravvalutando. Perché forse non l'hai capito bene la cosina. La sono sopravvalutando. No, no, l'ho capito. Ho capito. Ma non ci posso fare niente. Te l'ho detto. No, mi sembra che c'hai tipo un gradino per salvarti. No, ci arrivo. Quando c'ho il tizio davanti, io cerco di buttarmi dove penso che vada la palla. Se io istintivamente penso che vada lì, vado lì. Non ci posso fare nulla. Oh, oddio. Ma relativamente non devi guardare solo la palla, devi guardare il tizio perché il tizio è contro il palla. No, io guardo la palla. Perché è quella che devo parare. Ma allora dovresti fare una cosa. Ecco, c'è una soluzione. C'è una soluzione a questo per evitare anche tutto il discorso. Devi intercettare la palla. Quindi devi prendere la palla prima che la prenda lui. È quello che cerco di fare ma lo vedo che ormai è tardi che devo uscire. Perché sono sempre lì a dire non esco, non esco, non esco, non esco e poi devo uscire. In realtà. Oddio. Perché penso sempre che c'è qualcuno che riesce a difendermi. Quando sono soli così, soli, soli, i carali, ciao. Non devo uscire proprio in istantaneo. Per fatti passare. Guarda, guarda, vedi, vedi che se l'ha messa quella parte e te l'ho tolta facile. No. Vai, 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 vai. E li ti lanciati però mai. Aia. No, io mi sono... È fuori. È alzato lo scopino. Cos'è che scoppi? Vai, vai, vai. Di far lì saltare in aria la macchina. Fa dire... Ma alzato, tasto. Bene. Dai, dai. No, 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 no. Questo qui è quello lì che tu credevi che ti è assi alto e teatro basso. No. Sì. Minchia in pazzi di parare sta facendo. E quello è già più difficile quello, da capire. È abbastanza più difficile. Marra. Vai, tirati a... Non vuoi riprendere. Se te ne facevi gol, se non c'è. Se te ne sbagliate la palla lì che ti avevo tirato, io facevi gol. Guarda. Guarda, guarda, guarda. Ma anna... Nera difficile. È senza volcamo è impossibile. Vabbè, ma che cazzo, abbiamo fatto solo un gol. Vabbè, mi può dire, va bianca, va da dello stesso. Tieni, mi sento... Ah, non ci arrivo. Mi schizzetti. Ho accolto più punti di rio, finalmente. Mi hai visto. Non ci vuole mica tanto. Se uno l'hai fatta. Se uno sì. Sì, sì, se uno sì. Dizendo mal. E' finito uno di quei giochi di cui parlavi? Eh? E' finito uno di quei giochi di cui parlavi? No. No. Bravo, adesso c'è anche Red Dead 2, esce. Sa quando. Non sapete che comunque, alla fine, su Men's Sky, non su Men's Sky, ricordate che all'inizio ho rifiutato la guida del come si chiede. Ahà, sì, dell'Atlante. Ahà. Ma dove stanno giocando? Eh, non me l'avevo mai più chiesto se volessi seguirla. Eh, perché devi andare un po' avanti, devi andare. Ma è andato molto avanti, aveva fatto dieci salti, tipo. Beh, strano. Eh, ma bisogna... Li hai fatti, li hai fatti verso il centro, seguendo la guida, oppure li hai fatti a Muzzo, a che caso? No, nessuna guida. Ah, se non hai seguito la guida è per quello, devi seguire la linea che ti dà nella cosa, nella mappa galattica. Ho capito. Questi qua sono scarsissimi, eh? Sì, meglio, meglio, meglio. Qua ci prendo io? Sì, meglio. No, però... Cacchio. Mi hai rimbalzata perfetta qui. Eh, rimbalzo di Marta. L'avrei anche presa su un errore. Mi balsetto di Marta. Mi balsetto di Marta. Vabbè. Uno a uno. Non fa male a nessuno. Giusto. Ma non esista neanche il pareggio. Sto gioco proprio crudelo. Vai, vai, tiramela su, tiramela su. Cazzo, vabbè, senza nos. Era buona, però, gli sento. Occhio. È dritta, è dritta, è dritta. Bravo. Ho vista questa. Bravo, bravo. Perché è rimasto dritto anche lui. È rimasto dritto. C'è Isent, c'è Isent, vai Isent. E cacchie, ne hai fatte appazzaggione! Ma mi hai detto di non stare così tanto avanti. No, è giusto. Va bene. È giusto, è giusto. Però devi mettere la macchina di volta verso l'altra parte perché il passaggio viene da destra verso sinistra. Mi stai grottando, ecco. Ai, è l'ancione. No. Mi stava da. Sono tutti su, eh. Se uno la tira forte. No, no. Grande. Why? Why, 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 why? Why Isent? Why Isent? Passamela. No, cazzo. Ho provato. Oh, oh. Grande. Oh, oh. Lo devi anche. Merda. Me che perfetta. La messa perfetta tra me e lui, la messa. Perfetta la messa. Eh, non c'è nessuno sul primo palo. Eh, io non ci volevo andare sul primo palo perché c'era Isent lì. Eh. Che stai cercando? Se non li lasciavo, guarda, li lasciavo scoperto il resto. Isent, tu hai fatto un bel passaggio prima, peccato che non avevo il nostro. Oh, oh. Tiramela, tio. Questa piglia la puoi prendere senza fare nessun nosse. Vai la palla per il più x. Vai, gol. Gol. Quella palla di scenderio, basta che tu ti prepari a andare a passare la piglia. Non so, ma non calcolo male io il salto. No, ma è che più difficile farò un minuto di come se tu. Mi dice... No, che cazzo. Ma? Ma? Tu easy? Ma? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo ammazzino? Che cazzo? Adesso gli scrivo quel buon sapore, gli scrivo. Ma vaffanculo questo qua, c'ho avuto un culo assurdo che è rimasto sotto prima che erano incoglionito e sono così incoglionito da averli arrivati addosso. No, ti sei fatto impaurire da quella. Sì. Tanto quello io non te lo potevo togliere perché era messo dietro di te. Al massimo te lo facevo a lui il passaggio. Oddio. Ok, è mazzo quello. Come mi dispiace. Mi dispiace. Ma ha messo lui? Ma guarda. E gli dispiace. Eh, ma gli dispiace per quello. Pluff, l'ha messo lui. Gli dispiace. Che ne vedi? Eh, oh, purtroppo, dispiace quando la metti lì. Errore mio. Certo. Tra quello passare di io ce l'ho ripensata. Come si è rimesso lì. Eh, va. Quindi mi sono infilato dentro. Sì. No. Via, via. Dutta la dutta. Dutta la dutta. Vede la vecchiaia, vedi? Vedi? E invece che non ci capisce perché lui è giovane. Lo prende l'interno, lo prende. Io, ormai. Perché? Lagos fuck! Ma se sta pingando 28! Che cazzo vuole? Ma se pinga 28! Che cazzo vuole? Pinga metà di me! Sono vecchietto pure io, ormai. Sì, Rosicano, per la lag. Per la lag su Rocket League. Non è possibile. E questo non ha neanche il diritto, perché pinga 28, pinga. Che cazzo lag. E ho 40. Sta laggando nulla. Che cazzo. Vai? No! Mi so scuse. No! Mi sa che la prendeva quello, eh. Non lo so. Era 50 e 50, mi sa. Era 90 e 10, sicuro. Mmm, adesso. Era attaccato alla palla, quello. Eh, ma anch'io. Eh. Ah, io. Guardati quanta. Era al 100% che la toccava lui. Dai, dai, dai. No, non lo ha spostato. Non lo ha fatto. Ti vediamo. Bruffa è te. Eh, guardala. Non ci credo. No, non ci credo. Vabbè, ha aspettato un po' tutti, ha aspettato. Ma ha quittato, sì. Sì, è un acquittato. Dai che faccio anche il sesto. Bellissimo, geniale. Minchia. Vai. No, mi ha anticipato di nuovo. No. Dio. Neanche uno devono farne queste. Queste. Vai. Vai, Dio. No. Merda, visto che stai passando, beh, isn't, mi sono un po' smerdato. Smerdata di alto è la fast. Minchia. No, non ho potuto tirare qua. Basta. Basta, basta. Ma un po' di bianco. Un po' di bianco a tutti. Io sono l'assaltatore che praticamente è la versione agnello di Rocket League. Brava. L'agnello di Rocket League, dica. Mi sento qualche perra di saggezza prima di staccare. Riguardo a cosa, se di la tematica. Tematica. Dico, dine tu, la tu. Non ne ho la minima idea. Un po' un saggio sul come dormire bene, isn't. Allora, diciamo, se vuoi dormire bene, ricorda di svuotare la vescica prima di quei carti. Perfetto. Bene. Come consiglio, poi per prendersi sono, consiglio di mettersi a contare tutti i one shot subiti, su colori beauty, finiti worth. Bene. Sono tanti, eh, per quello. La musica di sottofondo è quella che si sente quando si sta nella home del PSN, quella musichina. Ah, quella lì. Non una musichina tipo quella di Skrillex, lì, quella di... No, 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 no. Devi dormire, no? Che cosa non ti fa dormire. Eh, ma ti concilia... Lo pensavo conciliasse, guarda, no? La musichina del PSN. Secondo me, veramente, l'hanno messa per stordirti e farti comprare più giochi. Chiesent... Forresti. Sai che Zepp, per la prima volta, mi ha dato ragione su un fattore? Esatto. Sì. Praticamente... Non l'hanno ancora arrestato. Pensavo fosse ormai in galera. Praticamente... Praticamente è uscito il primo video del multiplayer di Code, questo, no? E lui è arrivato e lui mi ha chiesto come già ne pensavo. E io gli ho detto... Eh, Black Ops 3 è più veloce, ok? Ti dico, non ti ho detto anche altre cose, gli ho detto, eh? Questa è quella tematica, Black Ops 3 è più veloce, ok? L'ho detto, no, è più lento. E io, ma... Se no, è più veloce, perché si vede, e poi l'hanno detto anche i progamer americani. E lui gli ho detto... Non l'hai visto il video 4.000 volte? Scusate, se no, non lo vedi 4.000 volte il video. L'hanno detto anche i progamer americani. L'hanno detto che sono dei... Allora sono dei ritardati te e i progamer americani. Mi è zionato adesso, qualche giorno fa, che ha fatto la beta, ma ha scritto subito Benji, vieni tu, il gioco è più veloce. L'ho detto io. Il che è troppo veloce, cazzo. Mamma mia. Ma tu lo sai che ancora crede, che una volta gli ho utilizzato, convincero con te su Skype, ma ancora ci crede, il matto, eh, ragazzo. Sì, comunque... Eh? Lol. Comunque, veramente hanno... Hanno incrementato ulteriormente il fattore random. Dove? In club 2. Sì, sì, perché altrimenti i pampini, i pampini poi non fanno le kill, non fanno. Beh, lì, isentrne... Altro davvero velocizzato, hanno... No, ha fatto ste map totalmente aperte, anche quando... Cioè, dove... Io ho rivisto un po' di ghost in questo gioco. Beh, io e di ghost... Oh! Non ci ho visto molto... Granché, non ci ho visto. Io sì. Di ghost. Il comportamento delle... Del DL armi. Eh, sarà che non me lo ricordo più quello di ghost, ormai dopo aver subito Advanced Warfare e Black Ops 3... Beh... Che poi, in tutti si è perso lo più Black Ops 3 che era quello cazzo più da center... Devevo fare... Benzi era andato nella multi... Io già ero indeciso... Eh, vabbè, ma tanto l'abbiamo preso quale, abbiamo giocato un sacco... Anche anche... Ma eravate voi, però, dicendo, non c'è del nome... Eh, vabbè, ma... Non c'è la Zepp. Non c'è la Zepp? Perché quindi eravate più forte? Mamma mia. Ma sai che Zepp ti ha venuto a coda dopo poco, dicendo... Dicendo... Eh, no, io sono dove anzi a Wolf, ero molto più forte. Mamma mia. Ciao. Ciao. Eh, sì, bo... No, stavo salutando. Sì, me l'avevi raccontato, me l'avevi raccontato. Ah, vabbè, ma che dire... Ma stai ancora registrando in streaming? Sì, tanto non c'è più nessuno a questo... Ah, non rimane poi online il video. Sì, sì, rimane. Per due settimane, lì. Non, ma intanto... Buonanotte, chi ci ha seguito, di tutti i topi. Buonanotte. Notte. No, non, ma che... No, non, ma che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.